Quattro, tre, eh due, eh sì, ecco qua qui, va bene sì, sì, sì no, no vabbè ma non fa, per me, non sembrate un pubblico pagante, Dio mio, quanto tempo, voi mi avete tenuto in vita, voi paganti, non quelli a casa, vi bacio tutti, Dio mio, anche voi poveri da 40 mila lire, bravi, cosa dire, eh, chiudiamo quella cosa lì per piacere, chiudiamo quella roba lì, mi sono portato la mia scenografia da Genova, chiudiamo quella, il passato deve andare giù, povero frizzi, dov'è frizzi, è invecchiato di 20 anni, tira giù, mi sono portato la mia scenografia, eccola qua, ora io ho talmente tante cose da dire che non so da dove cominciare, perché ho 5 anni di cose, allora devo dirvi, in 50 minuti 5 anni di robe e anche per 5 anni, i prossimi 5 anni, perché faremo solo questo e poi devo andare ancora via 5 anni, ve lo dico, allora, voi pensate che cosa, voi siete qui, siete venuti, voi a casa, pensate tutti, chissà Grillo, con tutto il casino che è successo, Tangenti e tutto, chissà Grillo, cosa dirà, sui socialisti, niente, niente, basta, basta, quali socialisti, basta, non dico niente, poi, poi non si può, io non ne parlo più di quelli, poi specialmente di quello lì, che sta facendo cenere a tutte le, fa cenere a tutte le parti, con Di Pietro, fa delle cene, ho paura, io ne parlerò quando lo vedrò rovinato nel tutto, magro, a Marrakesh che vende delle stringhe così, allora ne parleremo ancora, sì, bevo, guardate che se io avessi qualche cosa di preparato, io non so cosa sta succedendo, non riesco più a capire, la realtà supera qualsiasi fantasia, se io mi fossi preparato delle robe, non lo so, guardate che è veramente un, cosa dovremmo fare, mettere in galera tutti qui, questo qui esce adesso, Sama, i soldi a tutti i partiti, l'amministratore delegato, Sama, della Montediso, era, faceva il tapeziere a Ravenna, ma ve lo giuro, ha tapezzato una fila di Ferruzzi e è diventato amministratore delegato della cosa, ma l'ho capito, in che mani sei, come fai a inventarti queste cose? E Berlusconi, Berlusconi, io non credo che fosse un uomo straordinario, ma fa delle cose che non si capisce, è che va in quelle cliniche per dimagrire, gli fanno la liposuzione e devono avergli liposucchiato una parte del cervello, no, ma no, non è, sta di bene, perché è un uomo, ma no, per l'amor di Dio, è un uomo che finalmente è venuto fuori, finalmente faremo chiarezza, finalmente non ha più il politico da dargli delle penelate di unto, non unge più dei politici, c'è rimasto lui e deve rischiare lui, e ha fatto la prima cappella, quella di fidarsi dei giornalisti, e è andato lì, gli ha detto una preferenza, gli ha detto quello là, tutti i toloni, ed è rimasto vittima di un giornalismo che ha creato anche lui, perché è un uomo che è questo qua, che sta facendo, tra un po' farà un botto pazzesco, perché è un uomo che è cavaliere del lavoro, ma dovrebbe essere chiamato cavaliere dell'apocalisse, perché ha 4 mila miliardi di debiti, ma come fa uno a fare 4 mila miliardi di debiti? Io dovevo 300 mila lire a uno, mi dormiva sul pianerotolo se non le li dava, e questi sono i grandi economisti, fermi, sono i grandi economisti, ma vedi come gli si ritorce contro tutto a questi qua, gli si ritorce contro tutto, i giornali, i giornalisti, i suoi giornali, gira in se stesso, e lui è lì, che è stravolto perché cosa succede? Lui a canale 5 cosa fa? Paga i 30 mila dipendenti, che è vero, li paga in una banca che è la Caripro, dove gioca su 2 o 3 giorni di valuta, li paga lì, li manda in vacanza con la sua società di vacanze, gli fa l'assicurazione con la Mediolanum, gli dà la casa a Milano 2, quella con laghetto, con scritto laghetto, c'è gente terrorizzata che vorrebbe andare in un posto vero, gli fa fare la spesa alla standa, devono fare la spesa alla standa, ma sai che c'è gente terrorizzata? C'è Fede che l'han visto di notte che andava la Rinascente e che cercava, perché, e lui, e lui, ma quale, ma quale manager? Questo qui è un rurale, è il feudo, li paga da una parte e li prende dall'altra parte, è un mezzadro, ma c'è gente, c'è gente, i fornitori della standa, ve lo giuro, li paga in spot, uno è andato lì con mezza carne, gliel'ha posata lì mezza bestia alla standa e gli ha detto, i soldi, questo ha detto, ci facciamo fare un serial, come un serial? Li faccia lei in serial, paga in pubblicità, dovremmo fare lo stesso noi, andare a fare la spesa alla standa, uscire col carrello e non pagare, uscire e fare pubblicità a noi alla standa, è bellissima la standa, è straordinaria, ma come fai a immaginarti queste giornate? Noi dovremmo mettere in galera chi? I politici? Questa è la soluzione? Li mettiamo in galera tutti? Dovremmo, per mettere in galera tutti, andarci un'oretta tutti, tutti, dovremmo andarci tutti, perché per vent'anni siamo andati avanti così, facendo finta di non sapere niente, è vero o sì o no? Tutti dovremmo andarci, su, dai, un pochino mezz'oretta, dai, se scaricavamo ti acchiappavano a te, ti acchiappavano un altro, l'altro acchiappava l'altro, come l'iva facevamo, te la caricavi la tetta, te la scaricavano l'altro, te la scaricavano l'altro, te la scaricavano l'altro, arrivava l'ultimo, la riscaricavano, il giro della morte, per trent'anni, per trent'anni siamo usciti di notte, col passamontagna e andavamo a svaliggiare le case, tornavamo a casa nostra con la refurtiva e ci avevano svaliggiato a casa nostra, il giro della morte, siamo andati avanti vent'anni così finché è successo che cosa? Che questo giro è stato interrotto da un elemento estraneo, un elemento che si pensasse, si pensava non esistesse più, un onesto, è bastato un onesto che dicesse stasera non ho voglia di uscire, sto in casa, che si è disintegrato il sistema, ma è vero, ma questo onesto chi è stato secondo voi? Fermi, chi è stato? È stato Di Pietro? Ma Di Pietro è solo un grande carabiniere, un grande poliziotto che fa il suo lavoro, ma sono stati, chi è stato? Il primo corruttore, ve lo ricordate chi era? Zampini, quello di Torino, quello che dava tangenti da 300 milioni per avere appalti da 250, perché è fallito in una settimana, ve lo giuro, non aveva bene in mente il meccanismo, ma è vero, è vero, chi è stato? Ma lo sapevamo tutti, bastava vedere un film di Dino Risi di Ventani, fa c'era tutto, c'era tutto, sapevamo tutto, ma chi ha fatto succedere sto casino qua? Sono state delle figure che ce ne siamo dimenticate, non sappiamo neanche i nomi, le facce, sono state le mogli, le donne, siete state voi le artefici di questa cosa meravigliosa e nessuno se ne ricorda, la moglie, la prima moglie di quel deputato del Movimento Sociale di Roma, della US, ve lo ricordate che arrivò a casa con 30 milioni e lei disse in questa casa questi soldi non li voglio, aprì la finestra e li buttò fuori. Forse è successo a Genova, non se ne sarebbe accorto nessuno perché in 10 secondi sparivano. Queste donne qua, vi ricordate, la moglie di Chiesa, quello di Milano, non è stato lui, è stata la moglie che ha detto siamo separati, mi dai 800 mila lire al mese e ti imbosti 15 miliardi, ti faccio fare un mazzo così a te, a quelli come te, gli ha fatto fare un mazzo così. Le moglie, la moglie del giudice Curtò, il giudice Curtò, quello che l'hanno preso subito, che non era capace a rubare, era la moglie che lo instigava, lo seguiva in casa, sei l'unico che non ruba scemo, sei l'unico, sei stupido, ha acchiappato 400 milioni, dopo una settimana era così, dove l'hai messo e l'ho buttato nella spazzatura, non vi ricordate? Ma noi dovremmo essere grati a queste donne qui, a queste persone qua e dovremmo dedicare a una città, in tutte le città, una piazza, alla famiglia Poggiolini, sì, Poggiolini, già il nome, ne sembrano due della US, sono arrivati i Poggiolini, sì, sono i Poggiolini, i Poggiolini, Poggiolini è stato straordinario, Poggiolini ha avuto un grande merito, ci ha fatto vedere i soldi, non ne avevamo mai visti, sentiamo da anni parlare di tangenti, miliardi di tangenti, 30 mila miliardi, lui ce li ha fatti vedere, andavi in casa sua, ti si deve su un pub, un miliardo e mezzo nel pub, hanno visto la moglie di Poggiolini con un divano da quattro depositarlo alla banca del lavoro, cosa fa un trasloco? No, è il libretto degli assegni, ti dico, ma è vero, questa gente qua, fermi, allora, Poggiolini, Poggiolini ci ha fatto vedere i soldi, ne abbiamo 7 per dire valare 30 mili botti, i CCT, ha aperto la cassaforte che era un monolocale in casa sua, ha aperto, e cosa aveva? I botti e i CCT, te i botti e i CCT, lui Marenghi, Dobloni, Dobloni, ma dove va a comprare uno dei Dobloni? Sei mai riuscito a comprare un Dobloni? Tu essi e dici, buongiorno vorrei tre Dobloni, era pieno di pepite, lui dopo mezzanotte si chiudeva nella banca e nuotava nel Dobloni, con la moglie, con dei lampadari di zafferi che gli diceva è poco, è troppo poco, e quando gli hanno trovato altri 50 corti da un miliardo e mezzo l'uno in banca, ma gli hanno detto cos'è sti soldi, cos'è sono sti soldi, hanno detto eh, sono una vita di risparmi, una vita di risparmi, ma Poggiolini, Poggiolini non è, era solo un menomato mentale, uno malato di mente, uno che faceva una vita di un pensionato normale e prendeva setone, perché era la prassi così, e vogliamo mettere in galera questa gente qua? Non serve, vogliamo mettere in galera De Lorenzo? In galera? Ma perché sì? Se tu prendi uno e lo metti in galera, vuol dire che lo reputi, che lo togli dalla società perché è pericoloso, non è pericoloso, ha una famiglia sfasciata, gli hanno arrestato il fratello per traffico nelle cliniche, il papà ha 82 anni, faceva dei casino negli ospedali, il nonno spacciava cateteri, una famiglia così, cosa vuoi fare? Ma lo vuoi mettere in galera? Non lo voglio io galera De Lorenzo, non lo voglio, non voglio vendette, non lo voglio togliere dalla società, perché sono persone che nella società non ci sono mai stati, li prendi, li metti in galera e diventano pittori, e poi un galeotto quanto costa? 350 mila lire al giorno, è vero sì o no? Ci costa questi soldi? E chi se li prende? Chi se li paga? Lo metto nero, di nuovo, io non voglio assolutamente mettere in galera nessuno, bevo. De Lorenzo è un galera, io voglio condannarlo a tre anni, tre anni di inserimento nella società, noi ti condanniamo a sopravvivere con un milione e quattro lordi al mese, lordi come? Tre anni! E ti fai la tua coda per i medicinali, ti mettono il bollino qui come una cichita, ti fai la coda per il medico di famiglia e lo paghi un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, a seconda se la applicano questa maledetta legge. Condanniamoli a sopravvivere, io non voglio vendette. Noi ci siamo tenuti questa gente qua, sia Poggiolini che De Lorenzo, erano scienziati, non erano amministrativi. Ce li siamo tenuti degli anni, questo qui andava dal Costanzo a fare lo scienziato e diceva delle cose e lo showman diceva buono, non devi rispondere al ministro, buono! E lo scienziato era questo qui, lo scienziato. Poggiolini aveva la cattedra qui a Roma, lui, De Lorenzo, era, cos'era, bioricercatore, pensa che carriera, da bioricercatore a quasi bioricercato, praticamente è andato dall'altra parte del microscopio. Allora, voglio dire, ma gli scienziati sono questi, ma gli scienziati sono questi, sono questi gli scienziati, gli scienziati erano Fleming che andava a lavorare in bicicletta, gli scienziati è stato Sabin, Sabin è morto nell'indifferenza, è morto l'anno scorso, Sabin ha fatto il vaccino dell'Appoglio, quest'uomo qua ha fatto il vaccino dell'Appoglio, poi ha detto lo brevettiamo, gli hanno detto lo brevettiamo, guardi può brevettarlo, poteva diventare miliardario legalmente, tutti i suoi diritti avevano, ha detto quanto ci vuole a brevettarlo? 15 giorni, potrebbe morire qualche bambino, per l'amor di Dio, diamola all'umanità, è morto, non ce ne siamo neanche accorti, è venuto in Italia, è andato a un altro talk show, l'han preso anche per il culo perché ha detto vi preoccupate per l'AIDS, i bambini muoiono più di orecchioni e di varicella, l'han preso in giro ed è morto scorso, cioè senza il minimo, lo sapevate che era morto? Qualcuno no, cioè i giganti della storia, li abbiamo allontanati così, ci siamo tenuti, Gorbaccio, che fine ha fatto Gorbaccio? Chi me lo sa dire che fine ha fatto? Un uomo che fino a tre anni aveva cambiato da solo il mondo, lui e la sua voglia di Coca-Cola qui, dove è andata a finire? è venuto in Italia, chi l'ha ricevuto? Ciampi era a inaugurare l'appunto, non mi viene una parolaccia ma non la dico, pensatela voi, quella che volete, lui l'ha ricevuto, è stato ricevuto Gorbaccio dal sottosegretario di un festival dell'unità di Modena che gli ha dato della piadina, un po' di Lambrusco e lui che diceva, di Brovnowski, Skoskaya, dove sono capitati? Cioè ci siamo, i giganti della storia, li abbiamo fatto fare una fine pazzesca e ci siamo tenuti questi qui, i nani, i gobbi, abbiamo ancora questo qui, che adesso lo minaccia la mafia, ha detto Andreotti, praticamente si è auto-minacciato, ma stiamo aspettando, ma cazzo, ma vuoi? Ma per fermi? Ma perché? Perché devono sempre morire i migliori, come Liggio? Perché il giorno che morirà Andreotti finalmente gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo, sapremo com'è andata a finire, Dio mio, ma cosa ti inventi qua? Dai, cosa ti inventi la mafia? Lui è stato il mandante dell'omicidio pecorelli, ci credete? Può darsi, magari lui non l'ha mai saputo perché la mafia ha un linguaggio che non la puoi controllare. La mafia, il mafioso l'avete visto, no? Totorino ha detto un curto, ma te li immagini quelli lì che fanno esplodere il falcone? Totorino ha detto un curto, che coi meccanismi elettronici, che parla con Di Paola ha detto un licantropo, che dicono allora, un led, un led è acceso, quando arriva il falcone? Un led, ma che mi ingesto un led? Ve li immaginate? Lì c'erano degli ingegneri, non dei mafiosi. E lo vede il linguaggio. Totorino è il linguaggio, si sono parlati, si sono parlati lui e l'altro. E Totorino ha una sua moralità, eh? Gli ha detto io non ci parlo con te, che sei immorale e ho avuto più di due mogli. Lui che strozzava i bambini all'asilo, perché lui strozzava per una questione culturale, come tutti i violenti, avendo 40 vocaboli. Se hai la proprietà del linguaggio vai avanti, ma se ti manca la parola poi strozzi. Ma lui ha una sua moralità. Non so se avete visto i processi della mafia, c'era il Presidente che diceva Michele Greco ha detto il Papa, lei è imputato di 115 omicidi, cosa ha da dire? È tutta invidia, signor Presidente, è tutta invidia. Ma vi ricordate come terrorizzavano i giudici con le parole semplici? Gli diceva questo Michele Greco, signor giudice, la stima che ci lega la mia famiglia con la sua, il giudice la mia famiglia. E lui diceva sì, la signora lei, la sua moglie e sua figlia Elisabetta, che esce, che va alle Orsoline, esce tutti i mercoledì a mezzogiorno, tranne lunedì che esce alle 11 e mezzo. Quindi questo giudice qua ha detto vada. Lì terrorizzavano il dialogo, le parole. Il mafioso non dice vai a uccidere quello là. Il mafioso dice, ahia collo là. Come fai a mettere in galera uno così? E Andreotti ha una cena con gli amici, perché Andreotti non ha degli amici, ha dei vizi. Saranno mica amici questi, sbardella, si scarrapico, Gaspari, numarommi, i coglioni, quelli lì non sono amici. Io non andrei mai in casa a bere, ma c'è anche una minerale, è vero? Tu c'ha questi vizi e magari ha una cena così, avrà detto questo pecorelli è un po' maleducato, c'era un mafioso e tutto l'ha giusto io, mannaggia, è andato là e l'ha fatto secco. Ma lui non voleva. E allora noi pensiamo che la mafia sia questa, ma la mafia non è questa con la mafia, magari parla tre lingue, e si è evoluta. La mafia è un'altra cosa. Le banche, fanno banche. Ah no, ci sono questi personaggi strani, strani. Ora io non vorrei abbinarli alla mafia, perché non mi permettono di dire queste cose, ma sono strani. occulti. Ce n'è uno che vorrei farvelo vedere, questo qui si chiama Cuccia. Cuccia. Cuccia è uno, lo inquadrano, è sempre così, con i giornali, che cammina così, così come se cercasse dei soldi per terra. Non si sa niente, non ha cariche, è presidente della regionale della Mediobanca. Ma dove c'è un casino di miliardi di fallimenti, di casini, c'è lui. I suoi nemici erano. Mattei, che è atterrato violentemente e non se ne è più saputo niente. Calvi, che ha bevuto un caffè talmente lungo che si è allungato anche lui. Sindona si è fatto un nodo in un posto incredibile. Gardini e quello dell'Eni. Cagliari, che si è soffocato con un sacchetto di plastica e poi dicono che la plastica non fa male. Allora, questi qui erano i suoi nemici. Ora io spero di non stargli tanto sulle balle, perché vorrei andare anche ancora avanti. Ma è tutta gente che non si conosce. Privatizziamo, privatizziamo le banche, privatizziamo il credito. Professor Ruck, Marley è qui. Privatizziamo il credito con cosa? C'è gente che compra i bot, che è un debito dello Stato, perché noi abbiamo un miliardo, un milione, 750 mila miliardi. Non sappiamo neanche scriverlo. Un milione, 750 mila miliardi e ce l'abbiamo tra l'attività. Cioè lo Stato emette un debito e lo mette tra l'attività. Siamo le unici al mondo. È come se tu vai in banca e dici mi presta 300 milioni e che garanzia mi dà? Devo mezzo miliardo a quello là. Va bene, eccoli. E ti dai soldi. Compriamo un debito per acquistare un credito. Ma dove? Cosa sta succedendo? Ma ci sono, io, io, ci sono delle altre cose. Cerchiamo i socialisti che rubano, ci avventiamo sui cirini pomicini per 10, 40, 30, 40 miliardi, mille miliardi e ne stiamo pagando un casino. Come? Normalmente. Normalmente. Con cosa? Florins, Oral B. Questa è una multinazionale che si chiama Gillette. La Gillette ultimamente ha assorbito la ditta Tampa che è una ditta di assorbenti. Ve lo giuro, sembrano cose inventate, ma assorbire una ditta di assorbenti è il massimo della cattiveria. Ma no, è vera, sembra inventata, ma è vera. Forse vorranno fare il primo assorbente Bilama, essendo la Gillette. Mentre lo inserisci e ti depini. Sai, ci sono degli scienziati che lavorano per questo. Eh? Florins. Ci sono tutte queste multinazionali. Io voglio tornare al signore Invernici, quello che faceva i formaggi. Io voglio capire chi finanzia i 3.000, 4.000 miliardi. Sono i 10.000 miliardi di tangente. Sono soldi nostri. Io voglio sapere se Cragnotti è un delinquente. Voglio saperlo. Lo giudicheranno i giudici. Se è un delinquente io voglio sapere cosa vende. Se vende l'ala Zignago, che è il latte, io devo essere libero di saperlo e se voglio lo compro o no. Allora sul latte ci deve essere la foto di Cragnotti, la faccia di Cragnotti. E io vado a votarlo. Entro in un sopra il magro, ci metto una croce sopra e non lo compro più. Ma perché devo comprare l'acqua minerale di ciarrapico che mi fa schifo? Lui. Perché devo... La dita alimentare più grande del mondo qual è? Bevo. Tanto pensateci. La dita alimentare... La dita alimentare più grande del mondo qual è? Ve la faccio vedere io qual è. Fa queste due cose. E la Philip Morris. Da una parte. E la differenza fra queste due cose qual è? Qual è la differenza fra queste due cose? Che queste sono senza filtra. Cioè vi sembra possibile che la stessa azienda da una parte ti dà una cosa che ti fa venire un cancreto a norma di legge? Perché tu fumi quando la nicotina va giù? Il polmone chiede. Senta, lei è a norma di legge? Sì, allora entra e mi buchi di qua che è più sano. La stessa dita fa questo e fa cose buone dal mondo. Qui fila i fondi sull'attegame, qui fila i fondi nei polmoni. È la stessa cosa. Io voglio che in un paese civile si agisca, scusatemi queste parolone, come negli altri paesi, non di più. Se facciamo pubblicità alle Malboro, in tutto il mondo sotto la parola Malboro, ci deve essere scritto, il fumo nuoce gravemente alla salute, porca puttana. Da noi cosa c'è scritto? Malboro, viaggi del tucano. Ma cos'è? Where the cattle trip in the canyon, and the canyon of Malboro travel trips. È morto di cancro, lui è il cavallo. E allora, io non sono contro il fumo, per l'amor di Dio. Io sono contro la cra che va nelle scuole a insegnare ambiente ed educazione e la stessa dita fa iniziare al fumo un bambino di 14 anni. La stessa. Ecco dov'è, per conto mio, il lato marcio di questo. Voglio un'economia più sano. Questo, quel florise. Vi faccio vedere come ci acchiappano il grano. Florise. È un collutorio. Ora, io, che sono di Genova, pagare una roba così tanto, che la devi anche sputare. Non mi va giù, eh? Non mi va giù. Lo prendiamo in farmacia e ho detto, perché deve costare così tanto? Cosa c'è dentro? Vediamo un po'. Se costa così, ci sarà qualche cosa dentro. Composizione. Vi giuro, non mi invento niente. Vorrei farvelo vedere in quadrato, ma è scritto piccolo. Composizione c'è scritto. È bellissimo. Contiene 0,05% di fluoruro di sodio. Ho detto, chissà, chissà cosa costerà il fluoruro di sodio. Ho chiamato, giuro, un mio amico chimico e dico, quanto costa? 1000 lire al chilo. Oh, porca, 1000 lire al chilo. Però c'è, disciolto in soluzione acquosa. Ho detto, sarà la soluzione acquosa che costa, no? Ho detto, che cos'è la soluzione acquosa? Ho detto, è la soluzione che esce girando una soluzione di rubinetto. Poi c'è un po' di colorante e poi c'è, fermi, e poi c'è del dolcificante, perché dato che non ha il tappo di sicurezza col dolcificante e dato che il fluoruro è tossico, i bambini riescono a buttarlo giù meglio. Comprato in una farmacia a Roma, arriva dall'Irlanda. Allora dico, perché lo devo pagare così? È un colluttore, ho cavo orale, vado dal mio dentista e dico, senti un po', tu che sei un dottore. Lui è rimasto... Ah, sì, 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 perché non se l'ha aspettato. Perché? Perché? Perché se sei un dottore? Non mi fai una ricetta, mi vieni un po' incontro, mi fai una ricetta e mi metti zero, virgola, zero di fluoruro, disciolto nell'acqua. Con la tua ricetta io vado in farmacia e finalmente il farmacista farà il lavoro del farmacista, che è quello di fare un farmaco, non di spacciare ciclette, creme abbronzanti e preservativi del cazzo alla fragola, va bene? Allora, farà la ricetta. Quanto l'avremo pagato? Quanto l'avremo pagato? Il tempo del farmacista. Hanno un tabulato, ci vuole un minuto e mezzo, abbiamo controllato questo, sarebbe costato 1200 lire. Sapete quanto costa? 16500 lire al litro, il barolo del 71, 14,8. E noi cerchiamo i socialisti, noi compriamo queste cose, siamo noi socialisti di noi stessi. Noi abbiamo questo tipo di cosa qui, di economia, io sono stufo di questa economia che non riesco più a capire. E' possibile che tutto quello che si produce, chi lo produce, per chi lo produce è economico, per me no? Ma vi sembra normale che noi dobbiamo fare una vita da bestie per le macchine? La vita da bestie. Vai, vai, l'appunto, la mettono in tutti i posti i gradi, negli aeroporti, nelle stazioni. Sono entrati in casa di un mio amico, c'ho l'appunto messa così, tranne che nelle strade, perché nelle strade non ci sono più. E allora io voglio sapere perché si producono queste cose che non ci servono più. Ma stiamo mica scherzando? Il lavoro. Ma Dio mio, in Germania hanno votato una legge, l'hanno firmata stasera, dove lavorano un giorno di meno e noi pensiamo, ma la soluzione è quale? E' lavorare un po' di meno oppure il part-time, in Olanda c'è già, nel ramo assicurazioni in Olanda lavorano il 50% in part-time. Uno se vuole lavorare di più, lavora di più, un altro di meno, di meno. Se una dita fa cabriole, lavorerà un po' più d'estate, un po' meno di inverno. Abbiamo l'obbligo di migliorarcela la vita. Io non posso più sentire che uno si suicida perché non ha lavoro. Non ci voglio credere che andiamo nel terzo millennio pensando un commercialista si è ucciso perché non capiva un 740. Il terzo millennio, lo affrontiamo come nell'anno 1000. Nell'anno 1000 credevano che finisse il mondo lì e sono andati nel medioevo. Io il lavoro lo concepisco in un altro mondo. Ma Dio mio, ma cos'è? Bevo. Cos'è? Ma mille anni fa c'era uno con una palletta, lavorava dieci ore e faceva un etto di pane. Adesso al trattore fa una tonnellata di pane ma lavora sempre dieci ore. Io non riesco a capire. Io voglio migliorarmelo. Mi dispiace che la Fiat vada in cassa integrazione. Ma io non posso comprarmi 25 punti. Mi dispiace. È solo da portare via, da mandare via questa gente qua, da votare l'imprenditore. Ecco perché sono contento che è venuto fuori Berlusconi. Lo voglio andare a votare. Voglio votare Agnelli. Io vi faccio vedere un documento. Agnelli. È l'anniversario. Agnelli, me lo puoi inquadrare, guarda. Lo leggete qua. C'è scritto Agnelli elogiava l'ozio. Agnelli elogiava l'ozio. Il nonno. 60 anni fa questo metto qui. Questi erano imprenditori. Si scriveva con in audio e diceva non potremmo riportare le ore a 30 ore settimanali. Nel 1933 che c'era la crisi dell'auto. Questi qui non hanno neanche accusato il colpo. Questo Agnelli qui, questo che sembra Tutankamon, Dio mio, che se li tiri 100 lire lì si piantano qua non riescono più. Ma questo qui non è un imprenditore che dice... Dieci giorni fa diceva la crisi ne usciremo nel 94 all'inizio. Adesso è già nel 96. Ma diamogli un night, due tre norsi, su una barca e mandiamolo via. Non sono imprenditori. Gli imprenditori devono pensare anche un po' alla gente. Com'era suo nonno? Io voglio uno come suo nonno! Romiti questo! Il manager. Fa il manager col grano degli altri. La Fiat è entrata nel segmento B. Il segmento B partiva dal basso di Romiti e entrava nel basso degli operai. Va bene? Segmento B. La Fiat 500. Sai che ha mai fatto la Fiat 500? Perché vogliono il lavoro, no? È facile fare gli imprenditori col grano degli altri. Loro vogliono... In nome del lavoro loro hanno causato dei danni in commerciale. Hanno fatto fare la 500 in Polonia. Ne avete più sentito parlare? Ve lo dico io cosa è successo. Che gli operai polacchi hanno visto la 500 e hanno detto questo è il capitalismo. Sono andati a votare e si sono rivotati il comunismo. 500 ne hanno venduta una. L'ha comprata Gino Paoli e si è data l'alcol. La Puglia. L'induce automobilismo. Ma perché mi devi vendere una macchina? Io voglio... Qual è secondo voi la macchina del futuro? Ci cambierebbe la vita sì o no uno che fa macchine? Se ci dessero una macchina elettrica cambierebbe la sua vita sì o no? Che ci sia Ciampi o no? non me ne frega niente. Che ci sia una macchina elettrica cambierebbe la mia vita. E come la cambierebbe? La macchina del futuro. Sono un po' troppo... Eh? No, 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 dico solo un po' troppo perché scherzo. No, fatevi dei segni. Se divento messia, fatemi un gesto e mi metto subito questo. Va bene? Me lo tengo in tasca. Nel voto mi faccio vedere il terzo potere, sai? Aprite le finestre e crisate. Cacchio! Dio mio, le macchine. Fanno le macchine. Fanno le macchine di due tonnellate super sicure con due airbag, diciotto valvole, due tonnellate doppio airbag cinture pretensionate, sucose, super trains. Sei sicuro se hai 150 milioni da comprati questa macchina qui. Cioè, sei sicuro se sei in quella macchina lì, ma se sei nell'altra dove va a cozzare quella lì che è un bulldogger, allora voglio dire, la sicurezza è il si salvi chi può. E allora, cazzo, scusate il sedicone, ora mi intervoro. Allora l'airbag, l'avete capito che è un pacco? È un grande pacco. L'airbag tende a salvaguardare la vita del cliente, non ti fa dimezzare gli incidenti perché agisce quando già hai avuto l'incidente, ma serve a salvare una vita ogni tanto. Vogliamo risparmiare 4.000 morti all'anno? 4.000? Due righe. Ecco perché non eliminerei tutti i politici, perché la politica può cambiare. Due righe. Non si fanno e non si fabbricano più automobili che fanno oltre i 130 l'ora. Perché ci, fermi, c'è la legge, no? No, perché le fanno a due vedi, perché l'indotto, sempre per il lavoro. Non possiamo più comprare le cose che non ci sono utili. Dio mio, l'airbag, le cose, la macchina, le robe. Io il lavoro cosa è diventato, amici? Abbiate pazienza. Il lavoro, uno dovrebbe lavorare tre ore e poi stare un po' a casa, stare un po' con la sua famiglia. Ci dobbiamo solo migliorare la vita. Non è possibile. Il lavoro invece è cambiato, ha preso il posto del tuo tempo libero. Sul lavoro conosci, fai amicizie, ti fidanzi, si toccano molestie sull'ambito del lavoro. Lui tocca a lei, lei tocca a lui sulle scarivanie, arriva il capufficio, tutto lì. Poi esci, vai in vacanza e non conosci nessuno. I ragazzi vanno in disco. Ci ammazziamo nei weekend. Prendiamo fuoco nei weekend. I ragazzi vanno a ballare, questa musica pazzesca alle donne gliela fanno un attimo vedere, ma non gliela danno. Escono, vedono il primo paracarro e ci si disintegrano. Perché il lavoro cos'è diventato? La prima funzione del lavoro oggi è quella di limitarti i danni che ti fai nel tempo libero. Ma cos'è? Ma basta, Dio mio. Basta, c'è la tecnica. Ci fanno andare con le targhe pari e dispari, è vero? Ci hanno preso per il culo o siano? Pari e dispari. Non è successo niente, perché chi ha la targa pari e quel giorno possono uscire pari e esso è lo stesso. Anche se non sa dove andare. Dove vai? Non lo so. Era pari, tutti in coro. Ci prendono per il culo con le centraline. Con le centraline. Acchiappano lo smog a due metri e venti. Quindi i bambini e i sardi sono rovinati perché è 50 volte superiore. hai capito? E allora cos'è? Allora voglio dirvi, c'è la tecnologia, non la tirano fuori. Non la tirano fuori, amici. C'è. C'è un congenietto da 400 mila lire che aveva fatto la Volkswagen Eco Polo che monta adesso la Golf, la Eco Golf. È un congenietto che quando ti fermi con la macchina a un semaforo o sei in coda, stacca il motore. Sarà stupido consumare benzina da fermi. Sono 5 mila miliardi. Tra il tempo che stai lì, la coda, sai cosa ha detto Romiti sulla coda? Ha detto che stare in coda in fondo è un momento un po' per stare con la tua famiglia. Ma c'è gente che la stermina la famiglia. E allora siamo, voglio dire, c'è questo congenietto che ti stacca, non l'abbiamo voluto. Anche noi abbiamo delle belle teste perché hanno fatto delle prove e quello che gli si spegne la macchina rispetto a quello che arriva, boom, 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 si sente castrato perché vuol fare boom, boom. Bisognerebbe mettergli una cassettina con rumore boom, boom. Dio mio, il lavoro, ma cos'è? Ma devi fare le cose e le tangenti, non sappiamo più farle. Io voglio veramente che le cose prodotte siano convenienti per me che le compro. Non è più così. Io non sono arrabbiato per la politica, l'economia. Io credo che entriamo in una fase molto pericolosa di avvilimento. Guardatevi un po'. Io ho girato un po' per Roma, ma Milano è lo stesso. Cammini per la sala, come va? Ma guarda, mi rompi le palle. Siamo avviliti perché le cose che usiamo, le cose sono fatte in un altro modo, le cose che usiamo tutti i giorni. Per esempio, se io devo prendere una saliera, la funzione di un salino, qual'è? Ditemi qual'è l'unica funzione che dovrebbe avere un salino? Qual'è? Che quando lo rovesse esca il sale, esce di tutto, riso, mosche, formiche, il pepe come fai così, brah. Non hanno più la funzione originale. La gente che costruisce queste robe, il sapone, una volta abbiamo il sapone, adesso c'è questo che schiacci, il sapone va dall'altra parte. Una lattiera. La funzione di una lattiera è versare un liquido in un altro coso. La funzione in un contenitore, no? È questa la funzione, è costruita apposta. Ti tocca, ti tocca prenderla con la mano, farla scivolare nel gomito e rimbirti il bicchiere. E il bicchiere è quadrato. E fanno il bicchiere quadrato, che se non hai avuto due ictus tra una parte e l'altra, non riesci a bere. E allora a mezzogiorno che hai usato queste cose, sei già incazzato come una besta e non sai perché. Dio mio, noi dobbiamo lavorare di più e produrre di più per comprarsi queste cose qui che non sono fatte più per esserci utili. Scusate un po'. Rompo un tergipestale. Sarà successo tutto il gommino. Rompo il gommino. Vado dal distributore e dico, buongiorno, giura vera, dico buongiorno, guardi, ho rotto il gommino, mi dà un gommino. Abbia pazienza, ho rotto solo questo, io se vuole mi do due martellate sul costo. Cosa dovevo dire? Questo qui mi ha i comici, venite a prendere per il culo noi che lavoriamo. Ma no, ho rotto questo, vabbè mi dia tutto il tergicristallo. Uno, due ne dobbiamo, due. 40.000 lire ho dovuto comprare, perché li vendono a due, due. Allora ho dovuto spendere 40 sacchi, 40.000 lire, per un gommino da 1.000 lire. Mi tocca lavorare un giorno di più, perché anche le cose che compro non le trovo. Ma cacchio, lo specchietto avete mai rotto uno specchietto? Lo specchietto. Cosa ti cambiano? Lo specchietto ti cambiano tutto il braccio elettrico, il piantone della macchina, il seggiolino e il passeggero se li sta sulle balle. E allora dici, ma dove le faranno queste cose, amici? Dove le faranno? Dove le faranno? Questo qui da 1.000 lire, sapete dove l'ho trovato io? In Svizzera, dove sono miliardari, proprio perché hanno un gommino da 1.000 lire. E allora noi facciamo queste cose per buttarle via, per rifarle. Io ho un orologio, o un orologio giapponese, che è programmato il cinturino per rompersi dopo 80 volte che lo piegono. È la cosa più precisa dell'orologio. Noi viviamo immersi in questa economia veramente disastrosa. Va bene? Allora noi prendiamo e buttiamo via le stesse cose. Lo spazzolino. Prendi e butti via. È il prodotto interno lordo, amici. Il prodotto interno lordo è la ricchezza del nostro paese. Se non ci dicono che almeno è aumentato di due punti, dovremmo suicidarci tutti. Invece dovremmo gioire. Perché se noi con le tangenti avessimo fatto un ponte che è crollato, l'avessimo fatto meglio, vi faccio una domanda. Un ponte che crolla, quando un ponte crolla, siamo più ricchi o più poveri? Rispondete, rispondete, siamo più ricchi o più poveri? Più poveri. Però si ricostruisce e il prodotto interno lordo va su. Perché il ponte è stato fatto perché deve crollare. Le strade sono state fatte. I costruttori hanno costruito per 50 anni, non hanno costruito, hanno spacciato dei lavori per avere la manutenzione. Hanno fatto degli asfalti che si sbriciolavano dopo due mesi. Perché se no non si spiegherebbe, non si spiegherebbe che apri onda verde e cinque anni che tra Ronco, Bilaccio e Barberino del Mugello c'è un lavoro in corso, porca buttata. Va bene? Allora noi facciamo queste cose per rifarle. E il prodotto interno va su, va su e noi siamo più poveri. Metà del nostro prodotto interno lordo, della nostra ricchezza, sono sfighe. Se togliessimo le sfighe avremmo un prodotto interno lordo degli anni 80. Ed è quello che ci siamo svegliati adesso da questo sogno. Abbiamo vissuto così, prendendo una cosa e buttarla via. Per andarla a ricoperare ti tocca lavorare di più, gli operai della FIA devono lavorare di più, fare il terzo turno di notte. Evita! Uno si alza di notte e va a fare il terzo turno. Uno di notte o dorme o dà un colpettino a sua moglie che è anni che non la tocca più. Invece deve fare queste cose per comprare uno spazzolino dieci volte. Lo butti via e lo rifai. È come se tu, scusate il sudore, è come se tu sei seduto in casa, no? Sei seduto in casa e a un certo momento il vetro di casa tua del salotto si sbriciola. Un casino, pum! C'è un mattone, c'è un foglietto, vai a leggere il foglietto, c'è scritto, qualcuno ti ha rotto il vetro, telefona la nostra dita e te lo ripariamo subito. Facciamo quel video. E noi buttiamo via le cose per rifarle, va bene? E le rifacciamo sempre così. E lo spazzolino, addirittura questo spazzolino lo devi buttare via perché ti avvisa lo spazzolino. Quelli che l'hanno costruiti sono gentilissimi. Quando devi buttarlo via ti avvisano perché si decolora. Che gentili che sono, no? Rischiavi di usarlo magari una mezz'oretta di più. Non vogliono, non vogliono. Allora prendi e butti via. Butti via. E quando butti via? Quando buttiamo via noi non ci interessa più. Buttiamo via. Qualcuno ci pensa. Chi lo sa? Chi sarà? Non mi interessa, non è mica più mio, l'ho buttato via. E un po' quando il tuo cane fa la cacca, non so, qualcuno di voi ha il cane? Eh? Si sarà reso conto, è come lei mi fa di sé. Si è reso conto che i cani, scusate se ha sfondo questo ambiente ma questo argomento, ma ci sono dei miliardi che girano attorno, la cacca del cane. Si è d'accordo. Ha notato che è diversa. No, proprio dieci anni fa mangiava le cose che gli davi da mangiare te, quello che avanzavi tu. Adesso quello che avanzi tu lo portano a mille chilometri, ti costa l'ira di Dio e a loro gli dai queste robe. Tipo ciappi, ciappi, figo, ciappi, ciappi. Per me diventano dei tossici, non so se sei una cosa. C'è il mio gatto che c'era un branzino, è venuto lì con la zampa, ti seguo. E quindi non fanno più una cacca normale. Quindi quando mangiavano quello che mangiavi te, dopo due giorni che facevano la cacca, facevi così, si sbriciolava e faceva parte del tutto. Adesso vai lì dopo sei mesi, fai così è vivo, pulsa, ti segue. I cani non sono più amici dell'uomo, sono fabbricatori di merda i cani. A Roma camminano così, sembrano la fracci. E allora, quando tu fai, quando il tuo cane fa la cacca, cosa abbiamo fatto noi? Non abbiamo accorciato il guinzaglio, cioè non abbiamo accorciato la paletta, abbiamo allungato il guinzaglio. così tu stai a 50 metri e il tuo cane fa uno stronzo di 5 kg. Di chi è? Non lo so, io stavo parlando a 50 metri. È della società. Va bene? E noi ce ne dividiamo un grammo a testa, è vero che è così? E allora noi buttiamo via questo. E chi se ne frega? Bevo. Neanche Bruce Britney su da così. Bevo. E allora noi buttiamo via questo, che chi se ne frega? Sono 10 grammi di plastica, ma la plastica si fa col petrolio. 10 grammi, buttiamo via. Se moltiplichiamo 50 milioni di spazzolini, è già una petroliera piccola. E la buttiamo via. Questo qui va in un fornetto, questa plastica qui. Nel PVC c'è il cloruro e a 650 gradi il cloruro reagisce, perché non è un vigliacco, reagisce. E diventa diossina, che non è una bestemmia, è un gas. E la diossina va in cielo. E c'è l'aria che la trasporta per i prati, i campi, i mari, va sull'oceano, piove, la diossina va in mare, in mare c'è il planto, in pesci mangiano il planto, tu vai al ristorante, spendi 80 mila lire per un branzino e ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolini. E allora è così. E allora io... Scusate. Allora la tecnica. Allora io non devo lavorare di più. Non posso. Io voglio lavarmi i denti con uno spazzolino concepito e costruito in un altro modo. Ci sarà. Abbiamo la tecnica. Abbiamo Rubia. Rubia adesso chissà cosa ha scoperto. Io non ci credo quello lì. Abbiate paziente. Lui si aggirava al CERN. Il CERN aveva bisogno di finanziamenti. Probabilmente si aggirava lì e uno gli ha detto, cosa fai lì? Come cosa faccio? Ho scoperto un'altra roba. e si è giustificato perché era lì. È come la Levi Montalcini. Mi piace. Deve aver inventato una nuova molecola di lacca perché ha dei cappelli qui. Ma neanche Moir Orfei dei tipici. È una scienza che ho qualche dubbio io. Solo dubbi. Va bene. Allora la tecnica c'è. Facciamo un altro spazzolino fatto di un altro modo per lavorare un po' meno per non comprarne 10 all'anno. C'è? Sì che c'è. Dove l'ho comperato? In Svizzera. Ecco perché sono tutti miliardari in Svizzera. Perché lo spazzolino lo fanno così. Ogni due mesi non buttano via tutto. Ogni due mesi quando è consumato staccano qui. Tengono questo e buttano via questo. Non ve l'aspettavate questo? Vado a vedere la marca. Monte Bianco, Made in Italy. Lo facciamo noi e lo diamo agli Svizzeri. Pensa come siamo. una cosa geniale. Abbiamo la tecnica e non sappiamo usarla. Questa è tecnica, questa qua è la scienza. Siamo arrivati a questo. Perché prima per telefonare avevamo i gettoni, no? I gettoni ti danno fastidio. C'è la tecnica, la tecnologia. È questo. I gettoni basta, pesano. È vecchiume. Per telefonare c'è questo. Ma ogni 5 mila lire la butti via. È di nuovo lo spazzolino che va nel fornetto, reagisce, va nel coso, va nel branzino, mangi una bistecca, quella vuole la freghi, ma è sempre così. La tecnologia è questa. Parliamo dell'Europa e non sappiamo niente. Hanno ratificato il trattato di Maastricht. I tedeschi hanno finalmente sancito l'entrata dell'Europa in Germania. In Germania? Questa è difficile, eh? No, 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 non ci penso. È rimasto troppo veloce? L'Europa, in Francia, Germania, hanno una di queste. Non hanno una roba che butti via dopo 5 mila lire. Hanno questa qui, questa tessera qui, che usano per tutto e non la cambiano più. La usano per telefonare, per andare in banca, per pagare. C'è un bit che è un'informazione, il bit che dice che tu sei tu. Questa qui deve dire che tu sei tu e basta. Eviti di andare davanti a un notaio che ti dice lei e lei mi dia 500 mila lire. Anche lei e lei mi ridia i soldi indietro che c'ho. Questo, questo è la grande, è la tecnica. Perché la tecnologia, la tecnologia, se nessuno lo sa usare o se le usano in pochi, non è tecnologia. Non vedete come ci fanno impazzire. Ti vendono un computer, De Benedetti dovrebbe farlo. Non è l'ultimo degli imbecilli, quell'uomo. Dovrebbe darci un computer. Ti danno un computer che costa 3 milioni. Chi è che usa il computer qua? Per piacere. Ecco, quante funzioni usi di un computer? Un computer mediamente ha 500 funzioni. Quante ne usi? 5. Ma lo paghi 3 milioni. Non te lo fanno da 5 funzioni da 300 mila lire. Lo paghi 3 milioni con mille funzioni che non userai mai. Poi come l'hai comprato? C'è il modello nuovo. La tastiera è uguale. Lasciami la tastiera. Mi cambiano anche la tastiera. Noi viviamo... Compri una macchina. Perché io devo comprare una macchina con l'accendisigari se non fumo? Perché c'è l'orologio? C'è l'orologio? Ecco cos'è la tecnologia. La tecnologia cos'è? Casio ti semplifica la vita? Casio ti semplifica la vita? Guarda cosa ti dà che per usare questo apparecchio qui? Dov'è? Per usare questo apparecchio qui ci vuole un libretto di istruzioni di 8 kg. Cosa ti semplifica la vita? Che non riusciamo neanche a fare un registratore, a registrare una trasmissione. E play, tutto è in inglese. E play, e play. Ci vuole un delle dittine da giapponesi. Fateci due manopole, porca puttana. Una. art e sport. Allora. E finché l'economia, l'economia non diventerà, gli imprenditori non avranno un po' di cuore, non usciremo da questa cosa qua. Hai capito? Non ne usciremo più. La tecnologia, ma cosa? La tecnologia cos'è? Il quizzi? La televisione interattiva per interagire con la cervello di mai buongiorno? Ma basta un fisco per interagire con quel cervello lì. Allora, cos'è? Mio mio. Cos'è? Siete contenti? Finiamo? Quanto manca? Siamo alla fine. Siamo alla fine. Vi lascio con una cosa. La tecnica. Guardate com'è. Guardate come noi cerchiamo i socialisti e i sirini pomicini. Guarda questo qua. Questo è un telefonino. Tra un po' faranno. Non compratene più. Fatemi cortesia. Perché tra un po' uscirà l'europeo. E quello che avrei pagato due milioni cos'erà 300 mila lire. Fanno così. Fermiamoci un po'. Stiamo a vedere. Finché arriverà un imprenditore che guadagnerà lui e far guadagnare qualche cosa anche a te. Un po' di buon senso. La pila di questo telefono costa 150 mila lire. La cambio ogni anno. La butti via. È vero? Perché si chiama packaging. Packaging. Perché dentro c'è tutta la tecnologia nipponica. Perché ci sono i bit. Ci costa 150 mila lire. Perché chissà cosa c'è dentro. Mi è caduta se no non l'avrei mai aperta di mia spontanea volontà. Cosa c'è dentro? 150 mila lire. La macchina. macroingegneria. Cinque pilette da due mila lire da due mila. Ciao a tutti. 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 Eccolo lì. Dov'è? Eccolo lì. Dov'è? Eccolo lì. Disgraziati paganti che non siete altro. Come va? Grazie. 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 Come va? Saluto quelli da 40 mila lire proprio. Grazie. 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 La mia fonte di reddito. Grazie. 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 Grazie qui state facendo una cosa clamorosa, voi siete diventate delle persone, siete persone, non siete lo share del 25 di qua, avete pagato, come ti chiami? Come ti chiami? Come? Ferdinando, grigialo Ferdinando, io sono Ferdinando, non sono lo share di nessuno, perché non ne possiamo più, non ne possiamo più, apro i telegiornali, ho una parabolichina, apro i telegiornali di tutta Europa, Germania, Francia, la notizia, la prima notizia è, centrale nucleare, stanno facendo a Marsiglia, provando una centrale nucleare, per vedere se scoppia, in questo momento, per vedere se scoppia e la tengono così, per vedere gli effetti, tipo Chernobyl, stanno parlando in tutti i telegiornali del mondo, a Cernien, Cernien, che si chiama, non so, una centrale nucleare vicino a Marsiglia, va bene? I marsigliesi metà, la sicurezza, è sicuro, però Marsiglia è a 500 chilometri, tutti i telegiornali hanno parlato di questo, come è iniziato il nostro telegiornale, la morte di Moro, non lo conosco più, io non so neanche chi è Moro, i ragazzi di vent'anni non lo sanno, sarà un nostro ricordo nel cuore che spiegheremo ai nostri figli, ma io non voglio più sentire parlare di vent'anni fa, mentre parliamo di Moro, potremmo vaporizzarci in questo momento, scoppia un casino lì, e noi prendiamo Moro con Siga che dice il piano Vittoria, ma il piano Vittoria, ma che attualità è? Facciamo un'attualità, facciamo l'attualità del passato e mentre noi ci guardiamo in piedi il mondo va avanti, stanno facendo delle cose incredibili, il mondo va avanti e noi ci guardiamo i piedi così. Una roba, un avvillimento, ho girato un po' Roma, non è cambiato niente, per venire qua uno del bar mi ha detto, tangenti, sai tangenti, mi ha detto, dammi due biglietti grazie che ho quello della finanza che mi rompe i goliù. Ma cos'è? Ma cos'è? Giri, tutta la gente, adesso io sono inquieto, mi sento perché adesso i ladri non ci sono più, i ladri sono Cirino Pomicino che ha preso 5 miliardi, ma li ha presi in bot, era lui il ministro del tesoro, si è emesso i botti e adesso che sono pezzi di carta, gliel'hanno pagati coi pezzi di carta, li sono ritornati indietro, non ha mai avuto una lira, Poggiolini aveva i lingotti, questo qui aveva dei pezzi di carta, i bot, ecco perché non li tassavano. Eh? Ma parliamo di queste cose qui, ma vai per le strade, elezioni, c'è gente che si parla in una maniera, c'è uno che dice mi piace quel candidato lì, il candidato dice fatti i cazzi tuoi, un altro vorrei votare quello, ti mando in galera, ma cosa si sono rovesciati tutti i concetti, adesso i ladri non ci sono più, stanno andando al potere, stanno andando al potere, la gente mi fa più paura, questi qui che si gridano uno con l'altro, io ti faccio gli ospedali, quell'altro se voti me ti faccio gli asili nido, se quello li fa gli asili nido, li stupra i bambini uno con l'altro. Ma stiamo scherzando, ma cosa sta diventando? Io veramente non riesco più a capire che tipo di realtà, il tipo di realtà, e parliamo ancora degli 007 deviati, e questa qui Monti, il generale, questa che è uscita di galera, come si chiama, De Rosa, quella di Mucchitto, questa qui che parla e fa riesumare una salma, la tirano su, la tirano giù, la tirano su, la tirano giù, poi c'era anche la salma di Lenin, commentata da Fraiese, poi non sapevi più chi era la salma delle tre con Fraiese, e qui e là, Mucchitto, il generale Mucchitto, e Monticone, quello che era il generale che dovrebbe proteggerci in caso di Casini, era un paracadutista, Monticone, che ha dato 700 milioni a questa qui e non gli ha dato neanche un colpettino, ma bisogna mandarlo via perché è scemo uno così, no perché fa il gol, ma sono cose da prendere sul serio, un generale dei carabinieri del Pino, del Fino, a me, pensa che bevo, ho delle cose stasera stupende, del Fino mi sembra, il generale che aveva infiltrato, vi ricordate l'autizia, aveva infiltrato uno dell'andrangheta nelle BR, le BR sono di Milano, questo qui ha detto, ma che minchia state facendo, l'hanno scoperto dopo 30 secondi, ma come fai a prendere sul serio queste cose qui, come fai a prendere sul serio Gennarino, i servizi segreti c'era Gennarino o Spione, che era quello che ci metteva le bombe nel treno per poi telefonare e prendeva un milione e mezzo a bomba, ce le metteva lui, come fai a prendere sul serio queste cose qui, il PDS implicato che denuncia tutti, ma chi aveva implicato nelle tangentopoli il PDS, c'era, Poli, Poli, Polastrini, il Occhetto e il Conto Gabbietta, ma neanche Walt Disney che si fa una pera potrebbe immaginarci una cosa così, come fai a creare, la realtà ci sta fuggendo, è vero o no? Ma come fai Osmar? Ma giù, ma basta che apri il giornale, questo qui, le tangenti, questo come si chiama? Cittarristi, non sa neanche quante avvisi di garanzia, devo controllare, ho detto, c'è una calcolatrice, perché si vede che i magistrati quando ne avanzano due di avvisi, quanti ne sono? Ma come fai a immaginarti uno come greganti, straordinario greganti, è quello che lo prendevano, lo mettevano dentro, lo prendevano dentro, alla terza volta è uscita, ha fatto una dichiarazione, ha detto, hanno tentato di farmi perdere il buon umore, ma dove? Presidente del Consiglio! E dice, Presidente del Consiglio, è Ciampi, Ciampi, il povero Ciampi, che è andato in Germania a dire, è andato da Kohl, no? L'avete visto, no? Tre giorni fa da Kohl era, c'era Kohl e lui che lo, sembrava, c'era Kohl, sembrava la custodia di Ciampi, cioè che apriva, si apriva, usciva Ciampi, è andata a minacciare la Germania, ha detto, la smettete sto Bundeskontenzi? Bank, il Marco, state attenti, eh? State attenti perché verso la fine del 94 in Italia ci sarà la ripresina, la ripresina, ma lo capite che noi stiamo a parlare di queste cose, degli 007, delle stragi di vent'anni fa e i tedeschi hanno fatto un piano energetico col Giappone di cento anni, di cento anni, noi non sappiamo cosa facciamo lunedì mattina, ma stiamo scherzando, e che cose? E le fabbriche che chiudono? Mi dispiace le fabbriche che chiudono, per l'amor di Dio, ma l'acciaio, le acciaierie, vi faccio una domanda, qualcuno in casa è senza coltelle e forchette, mi dovete rispondere seriamente, vi manca la coltella e forchette? Si è andato in un negozio e ha chiesto mi dà due forchette? Non ce ne abbiamo, manca l'acciaio, siamo pieni di acciaio! L'ottomelara dà fuoco alla ferrovia, l'ottomelara fa carri armati, alla Spezia. Ora per farli lavorare, un carri armatino ce lo dobbiamo prendere, cosa devi fare? Magari bombardiamo, ci bombardiamo a vicenda, cosa devi fare? E allora, e queste cose, abbiamo un giornalismo che dovrei, non dovrei venire a dirle io queste cose, io faccio il comico, dovrebbero venire questi qui, i giornalisti, questa gente che ha l'ordine dei giornalisti, l'ordine che quando parla l'ordine dei giornalisti dicono, ah c'è un attacco alla libertà e alla democrazia, quando gli tocchi la pensione diventano pazzi, attacco alla democrazia i giornalisti, e beh il giornalismo, stravolgono la lingua, se voi prendete un qualsiasi giornale, qualsiasi, aprite almeno tre titoli e cominciano per E, ma cosa significa per E? Devi imparare l'Italia, non puoi cominciare E, e Ciampi andò in Germania, ti viene un senso di inquietudine perché dici, ma cosa ha fatto prima? È come andare al cinema a vedere il secondo te, bevo, stravolgono la lingua, cade un alpinista, scrivono montagna assassino, non alpinista pirra, lo capite sì o no? Nebbia killer, il farmaco killer, il farmaco non è killer, è killer chi ha composto un farmaco con certi elementi, ha dato il grano a Poggiolini e l'ha fatto, e ce l'ha fatto arrivare, è uscito il nome di un farmaco, il nome? Le persone le inchiodano, se fai qualche cosa ti mettono in prima pagina, inchiodato te, la tua famiglia ai tuoi figli, un nome di un farmaco? È tutta norma di legge, tutta norma di legge perché nessuno va a fare le cose. E abbiamo dei farmaci, tipo questo qua è di un'azienda di Padova, non dico no perché mi hanno scritto gli operai, mi ha messo in una situazione, comunque è un ganglioside, è un ganglioside che si chiama cronazia, lo devo dire, non cambia pazienza, vabbè, l'hanno ritirato in tutto il mondo, in tutto il mondo è stato ritirato. Qui il ministro Costa, forse era quello per bene, ve lo ricordate il ministro Costa quando era alla sanità, che si travestiva da paziente, entrava negli ospedali, oh, poi c'era solo ministro, straordinario era, infatti l'aveva fatto ritirare il farmaco, lui dove è andato? L'ha messo alle ferrovie di un buco nero là con gli operai, e sono farmaci che nessuno, nessuno va in galera, nessuno, perché sono tutti a norma di legge, tu prendi questo farmaco e dietro ci sono le controindicazioni, e poi dicono che non lo testano sui animali, gli animalisti non devono testarlo sui animali, lo testano su di noi, basta che leggi le controindicazioni ci sono scritto secchezza delle fauci, le fauci, io sono la bestia, hai capito, siamo noi le bestie, ma noi c'è da ridere, guarda questo qui c'è scritto, vi giuro si chiama indoxian, credo che sia un antinfiammatorio, c'è scritto, a volte, cioè raramente, raramente ha decorso fatale, raramente, tu lo prendi e dici, vabbè tanto è raramente, speriamo che sia un altro, un altro, porca putta un altro, questo qui è il mobile, qui c'è scritto, questo è straordinario, qui c'è scritto, preso in dosi massicce non esiste l'antidoto, ma chi lo fa un cobra, cosa so, cosa siamo diventati, porca, io non lo so, e questa gente qui scrive delle robe incredibili, non vedete che sono tutti uguali, si incantano tra di loro, usano i giornali comperati da noi, da milioni di persone, per parlare male uno dell'altro, l'altro dell'altro, bocca parla male di quello lì, Ferrara parla male di quello lì, ma telefonatevi a casa e non rompeteci i coglioni a noi, ma è possibile, ma scusa, gli ordini, i giornalisti, usano parole che non vogliono più dire niente, come attacco al territorio, c'è un sindacalista che dice attacco al territorio, attacco al territorio lo puoi dire se sei un ceieno, e poi i giornalisti li vediamo quali sono, hanno fatto la guerra quando c'è la notizia, io sono convinto amici, veramente, che se noi non leggessimo i fatti, i fatti non accadrebbero, accadono perché li leggiamo, se non leggiamo non è successo niente, e quando accadono cosa è successo? Ve lo ricordate? Guarda la memoria, con tutto questo cos'è, ci dimentichiamo l'invasione dei carri armati sulla piazza rossa, eh? Ve lo ricordate? Il giornalista ha detto i carri armati stanno avanzando verso la casa bianca, ma come? Ma non ce l'aveva quell'altro la casa bianca, ti cambiano, poi uno ti dice ecco forse una manovra del KGB, il KGB, l'abbiamo chiamato per anni KGB, anche i russi hanno detto ma cos'è sto KGB, non ci capiscono, cambiano le parole, e abbiamo visto, e c'erano due giornalisti, uno è Giulietto Chiesa che ha scritto anche un libro, non so come, deve essere un genio della, un medium, perché, perché sì, era, è vero, di Canale 5, che ne so, era a 30 km dalla piazza dove succedeva il casino, era a 30 km e cercava disperatamente dalle domande che gli facevano dallo studio di sapere cosa stava succedendo, allora dallo studio dicevano i carri armati, i carri armati? Sì, i carri armati stanno avanzando, va bene? Invece dall'altra parte c'era un certo gamba corta, ricordatevi, gamba corta della RAI, che era in un albergo a vedere la CNN in televisione, che ce la vedevamo comodamente qua da Roma, allora cosa cacchio ci sei andato a fare? Stavi qui, risparmevamo qualche milionata, questo è il giornalismo, queste sono queste gite che scrivono delle cose incredibili, ma stiamo scherzando e nessuno dice delle cose, andiamo a cercare i cilini pomicini per 5 miliardi, quell'altro 3 miliardi e poi sta succedendo una cosa incredibile, che io vorrei dirvelo, ma, no, perché poi devo ancora andare via 5 anni e poi invecchio, io non so come fare cosa? Allora, no, 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 fermi, allora, vedi che le grandi industrie, le grandi industrie stanno molando, operai, la macchina, la Fiat sta molando le macchine e investono, l'onivente licenza e tutti quelli che fanno machine, IBM, machine, investono cosa? Nella telefonia, nei telefoni, senza peso, telefono, e sta iniziando adesso una roba e io vi faccio vedere oggi il più grande truffatore che c'è, oggi, vi faccio vedere la fotografia, questo è veramente il più, bisogna metterlo in galera, subito, vi faccio vedere la fotografia. Allora, questo è un numero di telefono, l'144 e io casualmente, dato che ho 6, 7, 4 bambini, 5, vivo con i bambini, che sono una meraviglia, mi dicono, no papi, ho telefonato, dove? In Australia, ho parlato con uno, in Australia, perché i grandi pubblicitari, quelli che dovrebbero fare la pubblicità progresso educativa, ti mettono queste cose qui e ti iscrivono, ci sono i club, la televisione Italia 1, questo canale 5, ti tempestano i ragazzi, questa è una manovra diabolica, si acchiappano ai ragazzi e ti fanno telefonare, Chiara, telefona, telefona, aspetta, dunque piano bar, veggente in ascolto, un veggente in ascolto, chiama, fanni box, divertiamoci in 10 o solo in 2, ah, decolla con noi, feeling fun, non, ah, Beverly Hills, se hai una cotta e non sai cosa fare, questo è il numero giusto da chiamare, tempestano i nostri ragazzi di 13, 14 anni e questi chiamano, non puoi mica controllarli, e c'è gente, sa venendo un fatto clamoroso, che mi dispiace, ve lo dico proprio con la morte nel cuore, centinaia di migliaia di famiglie, di padri di famiglia che guadagnano 2 milioni al mese, gli arriva una bolletta da 7, 8, 10 milioni, mi vedono 10 milioni, hanno sempre pagato 300 milioni, c'è un errore, vanno alla SIP e quando vai alla SIP sei uno, non sei mica Giulio, sei uno con una bolletta, dici sono Giulio, sì vado al 0579, vado, sono Giulio, è un errore, no, è lei che non sa educare i suoi figli, non li segue e stanno rovinando, migliaia di persone per bene con questa cosa qui, se io voglio un servizio così, chiamo la SIP e dico me lo mette, ma mi fai una roba così, mi mandi tonnellate di pubblicità, i ragazzi chiamano, ed è un pacco, io mi rivolgo ai ragazzi, il 114, 114, sono tutti in assia una stronza, perché bisogna essere una stronza, no, che dice, come ti chiami Giulio? Stai in linea, 2000 lira scatto, 2000 cib e più IVA, stai in linea che ti chiamo, tu sei Roberto, aspetta un po', parlatevi, devo dire che non lo conosco, per socializzare, per far socializzare i nostri ragazzi, li metti lì un calcio ballilla, li fai giocare a calcetto, il ping pong, questi sono migliaia di miliardi sulla pelle nostra, allora ho detto, chi c'è dietro questa cosa qua? E' innocente, non sembra, ma quando metti miliardi in mani c'è la SIP, allora la SIP, la STET, la PRIC, la TOC, la PAC, e tutta questa gente che è invisibile, la forza di questa gente che sono invisibili e noi siamo milioni, ci trattano milioni, siamo milioni, di là milioni, tu non sei più giusto, quello lì è invisibile, allora diamo un volto, chi sono i responsabili? Ci state? allora, bevo, prima bevo perché, vi lascio un po', prendete carta e penna a casa, prendete carta e penna perché dobbiamo fare una cosina e non gliela facciamo passare liscia, allora, allora, ormai che trovo una cosa poi, allora, vi dico chi è la SIP, allora la SIP è una società per azioni, è privata quindi, grande, la privatizzazione, ah no raga, io ho visto ieri una cosa straordinaria, che mi ha dato questa carica qui, ho visto i ragazzi a Milano Italia, sono straordinari, ponevano delle domande con una criterio, perfetti, puliti, educati, salutavano, perfetti, mi ha dato una carica a Dio mio che sono qua stasera per, e, 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 intervistati da, da questo chi che non li lascia mai parlare, allora via, concluda, ti giochi la via, concluda, e con sopra questi, questi, questi morti, morti, professori che si, che fanno dei danni, che, che, parlavano e io non capivo, non capisce nessuno, i ragazzi li capivano, siete giustissimi, andate avanti così, avete una forza dentro che questi quali devono, li seppelleremo, con, 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 ma non con la violenza, no, con un pernacchione, con qualcosa, sempre con ridicolo, allora vi dico questa cosa qui che è meravigliosa, la SIP, gli azionisti della SIP sono la STET, CIS nomines, CIS novers, Philadelphia nomines, poche cose, medio banca, cuccia, c'è sempre, però voi mi direte, sì ma la STET, chi è la STET? Vi dico chi è la STET? La STET è questo, siete pronti? Mandate a casa, bambina, girati per piacere, girati, la STET, bambini a casa per favore, le mamme, tengano i bambini, la STET, il padrone della SIP, cioè la STET è la finanziaria, è la mamma della SIP, la STET è questo qui, si chiama Biagio Agnes, ne avete sentito parlare voi? Io era il direttore qui, la RAI va benissimo infatti, ora vi dico, quando io ho fatto sei anni di televisione, fermi, vi spiego questo, io ho fatto sei anni qua dentro, non l'ho mai visto di persona, mai, nessuno qua l'ha mai visto, si sentiva ed era un terrore, i dirigenti che dicevano no, è arrivato Biagio, Biagio, si è arrivato, poi uno come fa a impaurire che si chiama Biagio, tutti terrorizzati, la loro forza è l'invisibilità, perché allora non l'ho mai visto ma ci ho parlato per telefono l'ultima due volte di fantastico, perché mi chiamavano per terrorizzarmi un po', no? Cioè con la stima, e l'ho sentito parlare, e ho detto, mi diceva, combinazione è di Avellino, abbiamo un precedente che bisognerebbe parlargli, vabbè, e parlava come quello lì, e mi diceva, Grillo con la stima che ci allega, tutto la stima, io ho il piacere di dirle che lei è sulla Rete 1 e deve pensare alle famiglie, perché la Rete 1 è delle famiglie, quindi do bene, do bene e la ringrazio. Non sai congiuntivi, non sa l'italiano e è presidente di una cosa che fattura migliaia di miliardi, ma per questo qui non ci vogliono i carabinieri per mandare via qui, ci vuole mia nonna, avessi mia nonna viva, lo fa fuori in un attimo con la borsetta, sai quelle borsette di finto cocodrillo che avevano i nontri, andavano da questo qui con la faccia Biagio, vieni qua Biagio, vai a scuola, vai a scuola, infatti io pensavo, non essendo più in Rai, che l'avessero mandato almeno a imparare in italiano alla scuola Radio Elettra, almeno per parlare come Biscardi, non ce la fa, è andato, è andato e quest'uomo qua ci sta prelevando, sta facendo, veramente sta facendo dei danni a delle famiglie con 2 milioni, c'è gente che paga 10 milioni, ci sono i papà che chiamano telefono a giuro, sono i papà che chiamano, venite a arrestare il mio figlio, mi sta rovinando finanziariamente, ma tu pensa con un numero così che ddici, che ddici, che ddici, che ddici, ddici, che schiacci, una volta schiacciavamo, ddici, pensa, pensa nei comuni, nei ministeri, tutti gli impiegati, ah come va lì l'Australia, poi il telefono erotico, è un altro pacco, quello 001, è un altro pacco, c'è gente che si mette lì, si preparano, perché negli spot ti fanno vedere, ah, c'è senza, si preparano e per farsi una cosina passano dall'Australia, magari è sotto casa sua lei, e in Australia fanno il porno, non possono farlo qua perché è proibito il porno, lo fanno nelle Filippine, tutta norma di legge, e i ragazzi si attaccano a queste cose, sentono delle porcate, e poi ci stupiamo che a Civita Vecchia fanno degli stupri, e noi proteggiamo i ragazzi così, allora, allora, allora io vi chiedo una cosa, allora di prendere carta e penna, c'è un piccolo detatto, mandiamo una cartolina postale, mi dispiace farvi spendere dei soldi, sono 400 lire, lo faccio io anche domani mattina, la mandiamo una protesta scritta alla SIP, vi va? una letterina, vi dico il testo, intestato a, al vergognoso Biagio Agnes, presso la vergognosa SIP, Roma, il testo, vergogna, toglietemi a vostre spese l'144, se lo voglio deve essere facoltativo, non obbligatorio, stanno facendo dei disastri incredibili, ma non c'è, io voglio un po' di senso civico, sono i nostri figli, porca puttana, se no ci pensiamo noi, ma ferma, perché poi non sarei onnesto a dire che c'è solo lui, perché vedete, succede Berlusconi Bisticcia con l'Espresso Panorama, con l'Espresso Repubblica, col Corriere, Bisticcia, no? Non sei tu un fascista? No, siete tu fascisti, vediamo chi è, il nuovo 144 c'è, Biagione, il magnate, il magnate, il magnaccio, perché uno che guadagna su del gente che si fa le cose è un magnaccio, non è un magnaccio, oltre a lui ci sono, perché io dicevo, come fa questa pubblicità di 00, 144, a essere sul Corriere della Sera, Rizzoli, se sapesse una cosa così, come fa? Prendono soldi da questi qua, sono loro, il numero 144 sono Biagio Agnes, Edifon, gruppo Rizzoli, RCS, sono loro che mangiano, 200 lire a scatto, 500 più IVA, 200 alla SIP, 300 se lo dividono tra Rizzoli, Berlusconi, l'imprenditore per la democrazia, per le nuove società, Berlusconi, Biagione Agnes, Biagione ha anche la Stet a San Marino, cosa farà a San Marino? Trafico di gettoni? Poi c'è la Brondo della Radio Montecarlo, Radio Montecarlo, Radio Montecarlo e Radio 105, la cosa dei giovani, la Semedia Begging, gruppo espresso, scaracciolo, proprio scaracciolo, scaracciolo, e di nuovo la Rai con una piccola quota, dove sei Presidente, il nuovo? Allora, io vi chiedo di fare così, mandare questa lettera di vergogna per abolire il numero 144, lo faccio io domani mattina, se rimarrò solo non mi vede tanto che per 5 anni, se ci siete voi ci sarò anch'io, è tutto, è tutto, è questo, io guardate che io credo di piacere perché lo faccio da tanti anni queste cose, ma è un po' di senso di civiltà, le televisioni che si mangiano l'uno con l'altro, usano la televisione, Emilio Fede, non riesco a staccarmi, non riesco a staccarmi, quando lo vedo che parla, che fa questi generali completamente finti, il Papa Colace, ma si può, ma neanche Costanzo arriverebbe a una cosa così, Costanzo ha spento, non l'ha mandato in ordine, controlla lui la notizia, le notizie le monta, è un uomo incredibile, dove l'ha preso Berlusconi? L'avrà vinto a carte, l'ha vinto a poker, l'ha vinto a poker sicuro, ha fatto un chip, ha detto vedo, cazzo c'era lui, va bene? E va, e va, guardate, vengono fuori i più spregevoli, vengono fuori, lui la zattera, per chiamare la zattera che fa lui quel giochino, fai l'1-4-4, fai l'1-4-4, ti fanno spendere per chiederti un parere a te, ti fanno finanziare Berlusconi, sei tu che mi devi pagare a me se vuoi un parere da me, hai capito dove gioca? Mai buongiorno col quizzi, 1-4-4, sono di nuovo loro, con questa lettera li calmiamo, li facciamo capire, basta queste invece, e noi poi cerchiamo i cilini e i pomicini, ci fregano con le parole, ci fanno apparire un servizio così in più, invece non l'abbiamo chiesto, le parole, con le parole ci fregano, Dio mio le parole, datore di lavoro, fanno il nome tutto per il lavoro, in nome del lavoro si sono commesse delle cose incredibili, sempre per fini buoni, datore di lavoro chi è? Rispondete, siete paganti, quindi potete rispondere, siete persone, datore di lavoro chi è? Il datore di lavoro, datore di lavoro è quello che dà il lavoro, chi dà il lavoro? L'operaio, l'altro dà lo stipendio è un datore di stipendio, sarebbe cambiata la storia, ma è vero, il lavoro è vivo, non è un martello, è una persona, tutte queste cose qui usano ancora termini come proletariato, proletariato, andiamo verso il 3000 e usano proletariato, hai capito? Ricchezza con i figli vuol dire proletariato, ma chi fa i figli oggi? Gli operai? Gli fai di qualche miliardario? Oppure la cosa, quella con l'inseminazione artificiale, la, come si chiama? La Milo, sì, ora, io vorrei sorvolare, ma io vorrei un attimo, un attimo, no, un attimo di raccoglimento per quello spermatozoo, perché deve fare una roba, ma come sono? Quali sono? le parole, ora vi faccio le parole, creano devastazioni, piove due giorni a Roma, è il danno, piove quattro giorni e è catastrofe, capito? È catastrofe, quando viene veramente la catastrofe, non avrai più la parola per definirla, morirai negato gridando, è arrivata una, è una, che cosa dico, ce l'ho usata? Le parole hanno usato, qual è la nave mai costruita dall'uomo? La più sicura è una delle più grandi, come l'hanno chiamata? Ve la ricordate? L'inaffondabile, come si chiamava? Titanic! Titanic! Due giorni a fondare, va bene? E mentre stava fondando c'era la gente che ballava e cantava, perché era impossibile per loro pensare che una nave che si chiamava Titanic potesse affondare, se l'avessero chiamata vediamo un po' se galleggia, stavano a ballare, a cantare, erano tutti fuori aggrappati, le parole creano dei disastri, invece uno dei più grandi navigatori, Charles Cole francese, quello che scoprì l'antardine, si fece una barca, lui, per andare nei ghiacci, non la chiamò mica stupra, pinguini, spappolazze, la chiamò purquapà, perché no? E' andato e tornato però questo qui, ma tutte le parole, la parola eternit, cosa vi viene in mente? L'eternit è l'amianto, l'amianto è vent'anni, dopo vent'anni abbiamo scoperto che è cancerogeno e lo stanno tirando via dalle scuole, dalle cose, vent'anni, come l'hanno chiamato? Eterni, eterni, vent'anni più, e quello che lo faceva, che probabilmente ha causato qualche milionata di morti, nessuno potrà mai provarlo, perché tutto a norma di legge è uno svizzero che ha scritto un libro, bevo, che dice, ha scritto un libro che si chiama Cambiare rotta, e lo credo, non fa più i tetti di eterni, fa le swatch, fa le swatch, che loro non chiamano orologi, li chiamano beni di consumo emozionale, perché li compri già che hai dieci orologi, no? C'hai la sveglia colla ma vedi uno scuba rosa, ha emozione, lo devo avere, bevi i consumi emozionali, allora con le parole si fanno i disastri, per arrivare alle parole più si fa, una signora che va a fare la spesa, se io dico questa cosa lava più bianco, cosa pensiamo? Che la cosa lavata è più bianca, quindi è più pulita, è esattamente l'opposto, non è che non è vero, è il contrario, è più sporca, è più bianca sì, ma è più sporca, perché dentro i depressivi ci sono i riflettenti ottici, che riflettono di più la luce, è come una mano di vernice, è come se tu tieni le mutande sei mesi, poi le levi, ci dai una mano di bianco e dici guarda come è bianca, è bianca sì, ma sotto c'hai dei topi morti, l'ultimo così, e ci pregano con le parole, veramente, ma fra cento anni quando leggeranno la nostra storia, ma rideranno come dei pazzi, con le parole, con le cose, vieni dai nostri concessionari, ti finanzieremo fino a 18 milioni, asterisco, vai a vedere l'asterisco, se ci rimangono i soldi, ma cosa? Noi siamo così, con le parole, noi prendiamo questo per esempio, Atlas, che è un detersivo ecologico, dicono, probabilmente è vero, questo è ecologico, perché? Perché ci sono delle sostanze come l'olio di coco che sono naturali, ho controllato, c'è l'olio di coco, però l'olio di coco lo fanno fare ai filippini e gli danno 15 dollari al giorno, le capane pieno di pesticidi, allora di là devasti le persone, e di qui? Oh, lo faccio per il mio bambino, allora un'ecologia fatta così, io non voglio un mondo ecologico perfetto, popolato da stronzi, io voglio un mondo perfetto popolato da delle persone, il rispetto prima delle persone, fai le scuole ai filippini, dargli 50% o più della paga sindacale, non usare i pesticidi là, e chiedi, volete pagarlo mille lire in più, io te le do a mille lire in più, e poi me lo vendi qui, e mi dici le parole, guarda le parole, mi fai un primo piano qua, voglio che capiare, mi permetto di dirvi, perché io sono stato più attento di voi, è il mio mestiere, lo leggi qui cosa c'è? Cosa c'è scritto? Lo leggi? C'è scritto fino al 50% di plastica in meno, pensate cosa vuol dire, fino al 50% di plastica, forse la metà, la metà, ma poi la metà di che cosa? Non scriverci niente, fai più bella figura, ma fino a, cosa vuol dire fino a, è come se tu entri in un negozio e dici, che bei pantaloni? Quanto costano? Fino a 80 mila lire, le do 2000 lire e te le porti a casa, ecco com'è, con degli inghiti, con delle piccole cose, con le parole, io non voglio più essere preso per il culo con le parole, uno che mi scrive qui, firmato natura, cosa vuol dire firmato natura? Che è arrivato un pioppo e mi ha fatto così, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Fermi! Fermi! Il regalo, poi il regalo, ecologia, è esattamente l'opposto di regalo, ecologia significa meno, la nuova ecologia, che sono degli esperti, se ti abboni ti regalano l'orologio ecologico, l'orologio ecologico, ma l'orologio ecologico è quello che c'hai già, avremmo dovuto dire, avremmo voluto regalartelo, ma siamo ecologisti, tieniti il tuo, così non combiniamo dei casini con la plastica e il petrolio, e questi ti regalano, il regalo, c'è scritto io, io non mi invento niente, guardate, il regalo, la ecoborsa, la ecoborsa, ma cos'è? Una borsa che apre e fai, ah, 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 cos'è? Cos'è? Magari amici, fermi! Magari la ecoborsa, magari fosse la ecoborsa quella lì, invece l'hanno fatta davvero, non ci volevo credere, l'hanno fatta davvero, eccola qui, eccola qui la ecoborsa, che non è altro che il profilattico di questa, tu c'hai la tua ecoborsa, te la metti sulla ecoschiena e vai a fare la ecospesa! Allora, sembrate finti, non sembrate paganti! Allora, una delle parole più devastanti è l'ambiente, parola ambiente, ecco, ambiente, cosa vuol dire? Ambiente, 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 uno pensa, oh, l'ambiente, oh, l'ambiente, ci sono rimasti due panda, Dio, due pandini che mangiano bambini giovani, mi dispiace che ci siano rimasti due panda, ma magari un giorno la Cina aprirà le frontiere, ci sarà una vallata con 7 milioni di panda, con la nostra fotografia sulle loro malicefie, che nel frattempo ci saremmo estinti noi, non c'è più un falegname, un fabbro, ci stiamo estinguendo noi, le parole gratis, una delle parole peggiori, ecco, non fate, gratis, paghi due e ritiri cinque, ma scusi, perché? Allora quando ho pagato due per anni, mi avete fatto pagare due per due, mi avete fatto un culo così, ma cosa significa? Eh? Cosa significa? Non voglio, tutto omaggio, tutto gratis, io voglio dirvi, io sono andato a fare la spesa in tutta Europa, amici, l'ho fatta, sono andato a informarvi perché parliamo di Europa, ma magari non la conosciamo, io l'ho fatto per voi, in Europa, se tutti per due, vai un po' via da casa, vai via da casa cinque giorni, cosa succede a tutti? Cosa vi succede? Vai via da casa, arrivi, c'è la posta e dici, Dio mio quanti amici che ho, cioè questo, questo, ma chi te l'ha detto? Ma come ti permetti? In Danimarca è proibito dalla legge, facciamo due righe, non puoi mettermi niente nella cassetta se non te lo dico io, punto, perché mi fai prendere, è carta, sono alberi, non te l'ho chiesto, devi buttarli via e vanno di nuovo al macero, sono di nuovo, perché? Gratis, tutto, mi voglio leggere Repubblica al venerdì, mi danno Repubblica al venerdì e in omaggio gratis, ti danno questo degli affari, è venerdì di Repubblica, questo qui, il compact disc, c'è un compact disc con scritto vietato aprire, me lo regali e poi mi vieti di aprire, e poi perché, chi ti ha detto, perché mi devi regalare tutta sta roba? Scusa, mi piacerebbe anche capire, se mi regali, potrei anche ringraziare chi mi regala, no? Mi piacerebbe contraccambiare, grazie, magari regalo io qualche chi, mi regali come se vai in un bar e dice, buongiorno vorrei una birra, prego c'è anche un tossino, maggio dietro, ma la mia libertà è pagarla le cose, se io questo lo voglio, me lo metti mille lire a parte e mi leggo il giornale, ma se me li dai così, sono 5 etti di carta, 800 mila coppie, sono 500 tonnellate di carta, che butto in un forno, il forno c'è la cellulosa, va nella cosera, diventa diossina, ve la ricordate? La diossina ve leggia, ve la ricordate? Per i prati, per i prati, va nell'acqua, nell'acqua c'è il planto, i pezzi mangiano il planto, tu vai al ristorante, spendi 80 mila lire e ti mangi una bistecca, una bistecca così li rovi. No, io non voglio che mi... la legge di mercato è domanda, offerta, prezzo, se questa cagata qua, cagata per il modo di dire, nel senso lo fa anche il Corriere, al giovedì, li vogliamo rovinare? Al giovedì compriamo Repubblica e al venerdì il Corriere... e scusi, mi regali tonnellate di roba, tonnellate di roba, e io ho un po' di sospetto, sono di Genova, e io ho uno che mi regala, c'è un detto, scusate, è un detto folcloristico di Genova che dice che la vita è una tempesta, ma prenderlo nel culo è un lampo. Allora, ma cos'è? Ma io non voglio... ma perché mi devi regalare tutto? Non voglio più, non voglio... perché tutti gli anni, porca Eva, porca tutti gli anni arriva uno e mi e gli... poah! Quant'è? Niente! È gratis, com'è gratis! Un tonnellate... questa è Amazzonia! Mi tengo quelli vecchi! Oppure il progresso, il futuro è questo, il futuro fai una cosa così, lo metti nel coso, digiti il numero, ti viene fuori, ce l'abbiamo il futuro, in Francia fanno così... noi tonnellate di Amazzonia e te li... mi di ai vecchi! ci sono un po' fece... mi di ai vecchi! E allora vi faccio una domanda, questi qui hanno dei costi, secondo voi sì o no, sono tonnellate, pensate un po', provate a pensare a milioni invece che singolarmente, siamo milioni, ecco il loro segreto, che noi siamo milioni, da soli non esistiamo, provate a pensare, hanno un costo, milioni di tonnellate, centinaia di miliardi di tonnellate, ce l'hanno, chi paga? Una domanda, chi paga? noi, questo... loro! Noi, aspetta, è bello questo, sinceramente, come? Non paghi quando te li consegnano, sono gratis, sulla bolletta, se si pagassero sulla bolletta, a Genova avremo ancora gli elenchi del 1921, è che sulla bolletta paghi 1800 lire che è una stronzatina di consegno, non le paghi sulla bolletta, sarebbe troppo semplice, ci accorgeremo e magari non li vorresti, ci accorgeremo, li paghiamo come? con le pagine gialle, con la pubblicità, con i prodotti pubblicizzati qui, tutte le volte che andiamo a comprare in un supermercato, ci acchiappano così 10 mila miliardi all'anno ogni volta che facciamo la spesa, nessuno ce lo dice, noi poi cerchiamo i cirini, sono dei ladretti di galline a confronto, ma stiamo scherzando, paghiamo tutto così, andiamo a fare la spesa, ma scusate, bevo, avete la sensazione? Avete la sensazione? Un palo con una donna che fa la spesa, vai a fare la spesa, esci col carello, hai speso 200 mila, vai a casa, levi le robe e dici, ma come 200? Tuo marito ti guarda e ti dice, ti sei imboscata il grano, no, non mi sono imboscata, perché compriamo spazzatura e la chiamiamo prodotto, ci fanno comprare delle cose e le compriamo, compriamo per esempio, questo qui è un prodotto colgate, che finalmente hanno tolto il gardone, dopo 10 anni, che ce l'hanno menato col gardone, ci vede che uno di noi se ne è accorto e ha detto, la cos'è sto cazzo di gardone? Allora poi ci hanno detto, se ne sono accorti, lo togliamo, eh? Allora, colgate con gardone, compriamo un prodotto, tu compri 4.000, 3.000 euro, un prodotto, hai comprato un prodotto, vai a casa, questo qui non è più un prodotto, ma come si apre? Questo qui è un rifiuto, questo qui quando hai finito lo butti via, perché non lo fanno ricaricabile? Quando è finito ve li me lo ricarica, spendersi 200 lire, in Germania ce l'hanno, ce l'hanno grossi, fanno i dentifrici per 6 mesi, vanno in giro, si fanno i dentifrici, ma lo pagano come? E noi ridiamo dei tedeschi, sono faciloni, ridiamo, però la loro economia viaggia un pochino meglio della nostra o no? Vi faccio vedere, il Vademecum, questo qui si chiama Vademecum 2, lo fa la Enkel, in Germania costa 700 lire, 700, la Enkel fa questo in Germania 700 lire e la stessa fabbrica fa questo da 4.000 lire che si chiama Antica Erboristeria, 4.700, perché è Antica, ti immagini le vecchiette che lo fanno a mano, hai capito? E allora noi, no assolutamente, poi c'è gente che non dice, c'è gente che poi fa delle cose incredibili, queste cose qui, qui c'è scritto, c'è una roba da 1.000 lire, acqua, zucchero, qualche sale minerale, qua dentro il gatto, e qui c'è scritto sconto 500, costerà 100 lire, fate una cosa, andate nel negozio, lasciatela lì e fatevi dare direttamente le 400 di differenza, mio mio, fa delle cose incredibili, no? E allora, allora, la pubblicità fa diminuire i pezzi, i prezzi, meno male, se no saremmo rovinati, e allora dovremmo comprare, fa diminuire i prezzi, Domopac 30 metri, 32 metri di alluminio, 9.000 lire, è più buono sicuramente, senza marca 30 metri di alluminio, 2.500 lire, 2.500, sarà meglio quello là, senza altro, ma per fasciare la roba, Dio mio, le spugnette, spugnette, queste qui, Vileda, costano 4 spugnette, 2.500 lire, queste qui 4 spugnette, 1.000 lire, è per lavare le pentole, saranno senz'altro migliori quelle lì, Dio mio, il sale, il sale, quanti tipi di sale ci sono? Questo qui costa 800 lire, e questo qui 250 lire, il sale, Dio mio, il kit e cat, questo kit e cat costa 2.700 lire, e questo qui 700 lire, sarà senz'altro più buono il kit e cat, ma me lo deve venire a dire il gatto! E allora? E allora? Dai, mia mamma mi ha lasciato questo, mia mamma in eredità, mi ha lasciato questo, la bottiglia del latte, te la portavano a casa, senza etichetta non serviva, era la tua centrale del latte, adesso abbiamo privatizzato, mia mamma mi ha lasciato questo, io a mio figlio, il tetra fa 45 miliardi di cartoni, usa e getta, è questo il principio, usa e getta, questo qua è fatto di carta con i pini della Svezia, di plastica con le petroliere e di alluminio, la bauxite arriva dall'Australia, per fare questo, petroliere dal Golfo Persico, camion di alberi tagliati dalla Svezia e camionate di bauxite, di come si chiama alluminio, lo prendi e lo butti via, dovresti tenerlo perché costa andare in banca a dire senta addirittura, costa l'ira di Dio, mi faccia un conto e lui ti dice si venga che ce l'ha anche Poggiolini, un conto così, e invece buttiamo via, allora il futuro qual è? Gli industriali cosa dovrebbero fare? Dovrebbero sedersi un po' lì, guardarsi in faccia e dicendo questo è il passato e non si fa più, questo qui è il passato e non si fa più, però il concetto di bere, ridare, riutilizzare e non riciclare è perfetto, mio nonno l'ha inventato, non facciamo più il vetro ma la bottiglia per il 2000, il 3000 c'è, porca puttana, eccola qui, questo qui è un policarbonato, è di plastica, viva la plastica, io non sono mai stato contro la plastica, viva la plastica, questo qui lo riutilizzi 80 volte, ci metti quello che vuoi, è un policarbonato, 80 volte lo utilizzi, la bottiglia di vetro è meno, questo, i tedeschi ci sono arrivati, i nostri si guardano ancora le punte dei piedi, le sinergie, hai capito questo? Parlano di riciclaggio i nostri, perché? Perché hanno l'anima sporca, il riciclaggio non esiste, è un altro modo per rifare i soldi, dai su, riciclaggio, ma vi sembra normale, credete veramente che tu butti via una bottiglia, la ricicli, riciclare, secondo voi cosa vuol dire? Che buttiamo via questa e da questa la scioglano e fanno un'altra bottiglia? Le avete viste chi fa il riciclaggio? Sono società, recycling, inves, healthy, just walking, smaltimation, andare, poi sono due marocchini che di notte vanno a buttare tutto sotto, poi non è possibile riciclare questo, amici qua, se bruci questo, ma non lo dico io, lo dice la legge dell'entropia, cioè la seconda legge della termodinamica, dice che se tu sciogli questo, dall'ordine, crei una poltiglia che ha un disordine, dal disordine non riesci più a fare l'ordine, non esiste, è come se, non so, se tu fai bollire un acquario ottieni una zuppa di pesce, però è difficilissimo che da una zuppa di pesce ritorni a fare un acquario, non esiste, cancelliamo la parola riciclaggio e mettiamoci riutilizzo, allora ci faremo veramente del bene e basta, ma non puoi buttare via tutto questo, e la scienza, la scienza dovrebbe fare il suo ruolo, la scienza fa quello che può, la scienza, Dio mio, la scienza fa quello che può, ma non può fare quasi niente, perché la scienza è critica, non è mai certa, lo scienziato ti può dire, ti può dire che se prendi un foglio di carta, lo butti lì, cadrà sempre lì, tutti gli scienziati, però lo stesso pezzo di carta invece di buttarlo lì, lo stesso pezzo di carta, fai questo, una volta, non cadrà mai nello stesso posto, guarda, ora per farmela posta cade proprio nello stesso posto, non cadrà mai, nessuno scienziato per la legge del caos, io lo butto lì, basta una minima variazione che cambia traiettoria, basta che uno lì dei poveri da 40 mila, faccia una leggera scoreggina, questo qui va dall'altra parte, lo scienziato è critico e non ha mai certo, ha dei dubbi lo scienziato, lo scienziato ha dei dubbi, il pubblicitario no, il pubblicitario è certo e io non sono nemico del pubblicitario, io faccio il pubblicitario, sono io uno che fa pubblicità, vorrei parlargli a questa gente qua, di cambiare, perché non puoi più fare queste cose qui, crei questi disastri qui, fai felice la tua donna, regalale una perla, ma se non ti ci mandano loro a cagare mi ci mando io a cagare, allora cambiamo sistema, perché fanno dei danni, lo sai che fanno dei danni, ci sono dite che fanno delle devastazioni a fin di me, la Nestlé fa un latte per i bambini, latte per i bambini, è giusto farlo, perché chi non può dare il latte ha questo latte qui, però ne producono tonnellate, tonnellate devono vendere, devono venderci, devono essere i pubblicitari, allora sapete cosa succede? Per vendere, che la Nestlé nel terzo mondo, da questo latte alle mamme del terzo mondo, convincono le donne i pubblicitari, sai questi creativi che si chiamano creativi, creativi, Dio è un geometra, sai quelli che si parlano, io li ho visti, ci sono stati, l'ho fatta, girano con delle cartelline, con dentro cartelline, con altre dentro cartelline e dentro niente, e si chiamano, tu sai cosa sei, copy, dov'è l'account, è giù dal copy e fanno il trend del target, ma neanche loro ci capiscono niente, si dicono così per giustificare il grano che prendono, e allora delle volte fanno la Nestlé nel terzo mondo, convince le donne del terzo mondo a non allattare più, mandargli il latte chimico della Nestlé, e i dati ultimi sono che nel 92, un milione e 150 mila bambini sono morti, ma non per la Nestlé, perché là hanno l'acqua inquinata, devi far sterilizzare i biberoni, non ce la fanno, non gli danno gli anticorpi e un milione di bambini vanno via, qui non lo può fare perché ci sono i pediatri che dicono ma cosa sei scemo, se poi allatta, solo che non allatta più nessuno neanche qui, perché non c'è uno spot di dire allattate, perché sarebbe il buonsenso, il buonsenso sta andando via, perché nessuno ci investe due miliardi, cinque miliardi, e allora le donne stanno allattando meno anche qui, e come? Sempre con questi qui che fanno queste pubblicità, le più innocue, sono le più danneggiatrici, le innocue, shampoo, queste donne con i capelli che girano, strafichissime che girano, con le minigone entrano nei consigli di amministrazione, firmano dei bilanci, una donna così, non si tirano mai fuori una teta e la facciucciare a un bambino, se si tira fuori la teta, la facciucciare all'amministratore delegato, e allora, amici, io ho talmente questo poco tempo, due ore in cinque anni non mi sembra, e vorrei dedicare dieci secondi a una pubblicità, la voglio fare io, voglio dedicare la pubblicità alle tette nella loro magistrale e quasi persa interpretazione, prego, perché le tette le usano per tutto, tranne che per queste cose qui, ci fanno le copertine sull'espresso, su panorama, che poi non c'entrano con le tette i titoli, vedi che il titolo è, crolla la sinistra e c'è una teta per terra, crolla la destra e c'è una teta nell'orecchio, il cerchio si chiude e c'ha le tette a volte al collo, io voglio darvi dieci secondi per ricordarci a tutti che in fondo servono anche per adattare un bambino, senza fare del moralismo, per l'amor di Dio, ecco io avrei finito, avrei finito, me ne vado, quindi se io faccio il mio lavoro corro i miei rischi, voglio solo dirvi una cosa, faranno dei dibattiti sicuramente, cercheranno in tutti i modi di disintegrare quello che ho detto, ci riusciranno per l'amor di Dio, non sono mica, dico mica la verità, però io vorrei che teneste presente una cosa, quando sentite parlare un imprenditore, chiunque, pensate sempre da chi prende i soldi, quello che fa e dove lavora, un imprenditore se vuole fare un dibattito viene, prende il prodotto che costruisce, lo mette lì, allora la gente conosce il prodotto e conosce anche l'imprenditore che lo fa, se noi abbiamo questo parametro abbiamo anche il modo di giudicare la gente, perché nei dibattiti non capiamo assolutamente niente, io vi saluto e adesso abbiamo fatto una grande cosa stasera, abbiamo fatto una cosa straordinaria secondo me, adesso questa gente qua sa che noi sappiamo un po' di più e credo che il futuro ci sarà un po' più di rispetto, eh? Ciao! Grazie a tutti! Allora, faccio un bisettino, io ho sempre avuto la paranoia del tempo, mi dicono c'è il tempo, deve andare in onda al formaggino, un giorno un enorme formaggio mi seppelirà, e non è, abbiamo del tempo? Ci mancherebbe eh? Allora, anche perché mi dicono, io, insomma anche la RAI, che fa concorrenza a canale 5, quelli altri si fanno concorrenza, il senso della civiltà lo stiamo perdendo, io mi ricordo, ero piccolino, e vi ricordate anche voi, quando c'era solo la RAI, un canale, misero la seconda rete, vi ricordate cosa facevano? Quando iniziava il programma della seconda rete, mettevano un triangolino e ti dicevano, senti sta cominciando una cosa che potrebbe interessarti, guarda cosa c'è, questa è la civiltà, non questa qui, e allora mi piacerebbe anche che la borsa, che è lo stantuffo di tutte le nostre disgrazie, ce la spiegassero, c'è uno che ci dice da anni le stesse cose, l'avete mai capita? La finanziamo tutti e nessuno capisce questi qui che girano, chi vuole le azioni toro fanno così, chi vuole le azioni del vecchio banco ambrosiano fanno così, chi vuole le azioni della Montesison fanno così, giocano! E noi non capiamo, e arriva uno, e arriva uno tutte le sere, tutte le sere ci dice una cosa che dovremmo capire e una cosa che io mi sono informato per voi, ci dice il prezzo del petrolio, 15 dollari al barile circa, no? E ci sembra una cosa normale, quindi 15 dollari al barile, ma anni che ci dicono così, gli sarà venuta in mente una volta anche a Everardo dalla Noce, anni, neanche tu, gli sarà venuta in mente a qualcuno di dirci quanto ce n'è di stramaledetto petrolio in quello stramaledetto barile, no? Allora io ho fatto una cosa amici, ho fatto una cosa, il barile l'ho preso, è questo qua, ve lo giuro, questo è l'unità di misura del mondo, il mondo va avanti, l'unità di misura è il barile, costa 15 dollari, 20 mila lire, ce ne sono 156 litri, ho fatto un conto, ho fatto un conto, 15 dollari al barile, 156 litri, un litro di petrolio, 130 lire, ma com'è? Come 130 lire? Fate i casini, ma noi dovremmo invece, gli svizzeri l'anno scorso si sono aumentati da soli il 20% la benzina, se la sono aumentata, l'abbiamo presi per il culo tutti gli svizzeri e si sono aumentati la benzina, ma loro si aumentano la benzina perché sanno che 130 lire al litro il petrolio non è il prezzo vero, quei casini che c'ha, devasti, ambienti, cose, petroliere che si spaccano, il petrolio, la benzina dovrebbe costare 10 mila lire al litro e tu avere una macchina che con 2 litri fai 100 km, il costo del tuo spostamento non cambia, è giusto? Se tu hai una macchina con 2 litri fai 100 km e la benzina costa 5 volte, tu consumi 5 volte meno, chi se ne frega, però con i soldi copri i costi del petrolio e tu ti inquini 5 volte di meno, ci vorrebbe, mi direte voi, la macchina che va con 2 litri di benzina ogni 100 km, mi dite se è la macchina del futuro e chi la fa? E chi la fa la macchina del futuro che con 2 litri e chi la fa? Dov'è? Dov'è la macchina del futuro? Perché? Ma eccola qui la macchina del futuro, questa macchina del futuro la vedete qui? Sapete dov'è? Questa fa 2 con 2 litri e mezzo fai 100 km, 130 km l'ora, costa 9 milioni, è ultrasicura, si chiama Renault Vesta 2, sapete dov'è la macchina del futuro? Al museo dell'automobile di Parigi! Allora noi ci vendono delle macchine per farci consumare petrolio, perché droga e armi vanno così, petrolio e macchine vanno così, allora ti fanno la Twingo, la Twingo ha un motore di 15 anni fa fatto da un ingegnere della DDR, aste bilanciere che consuma come un tiro, quella fatta a buon dì, ma l'hai vita è fatta a buon dì, a buon dì, non sai dov'è davanti o dietro quando sei in coda di su, perché? Hai capito? Allora dovremmo noi pagare la benzina a 10 mila lire e avere una macchina così? Non ce la danno, i tassisti tedeschi, è 10 anni che i tassisti hanno un filtro dell'olio, che cambiano l'olio ogni 70 mila chilometri, a noi ce lo fanno cambiare ogni 7 mila, bisogna che questi industriali si guardino un po' in faccia, non possiamo più pagare 200 mila litri d'olio all'anno, non abbiamo più i soldi, è un po' troppo così. E allora il fatto clamoroso è che noi paghiamo 130 lire al litro, una cosa che fanno delle guerre, tra un po' non ce l'è più, fa un casino, il petrolio costa 130 lire al litro, la San Pellegrino 1200. Ora paghiamo 10 volte di più l'acqua, noi paghiamo la pioggia, perché questa è pioggia che va nelle rocce, filtra un po' e diventa minerale, quale cultura, quale civiltà, il mondo ha mai pagato la pioggia, è la nostra, l'abbiamo privatizzata, chi ce l'ha? I peggiori ce la picco, quelle di tutti ce l'ha. E allora paghiamo 1200 lire al litro quest'acqua, perché qui a Roma magari beviamo la San Pellegrino che è di Milano e a Milano bevono le Ferrarelle che è di Roma. E allora noi abbiamo sull'autostrada 500 camion che vanno avanti e indietro, che se ognuno si bevesse la sua cazzo di acqua, toglieremo 500, camion avanti e indietro e questa qui costerebbe la metà. Allora, i pubblicitari, i pubblicitari che io vi amo, non vi odio, non ve l'ho mai detto che vi odio, siete caduti in una trappola di questi bietti giornalisti. I pubblicitari invece di dirci che con i nostri soldi spendono 150 miliardi all'anno è il più grande business, perché l'acqua la beviamo tutti, non puoi privatizzare una cosa che beviamo tutti, il latte la diamo ai bambini, sono tutti quelli lì, l'aria, ci stanno privatizzando queste cose qua, la scuola, ma stiamo scherzando, terrore! Spendiamo 150 miliardi dei nostri soldi e le uniche tre cose che ci servirebbero, sapere, non ce le dicono i pubblicitari, dovete dirle, ci dovrebbero dire, non berla nel, bevila vicino a una fonte vicino a casa tua, togli il camion dall'autostrada, ronco bilaccio del Mugello e Barberino, si libera in un attimo, bevila nel vetro, bevila nel vetro, perché ce l'hanno fatta bere per dieci anni nel PVC, dopo dieci anni che noi abbiamo bevuto, c'è un po' tossico, meglio che non, ma come? Dopo dieci anni me lo dici petto, il petto, tra dieci anni ci dicono il petto è meglio che lo togli, meglio il vetro, ma cacca! Allora, l'avete mai sentita dire questa cosa qui? Bevila vicino a casa tua, bevila nel vetro e bevila con poco sodio, il sodio fa male al cuore, sono tre cose che ci piacerebbe sapere, invece con 150 miliardi dei nostri soldi ci dicono se la bevi diventi una strafiga, se la bevi digerisci, boario, se la bevi si vede, si vede che sei un coglione, ecco quella che ti dice, ciao a tutti, grazie, ciao, un po' di rispetto! Grazie a tutti! Ciao! 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 Grazie. Ci vogliamo bene, ci vediamo. Ciao.